Buonasera a tutti, saluto il sindaco, gli assessori, consiglieri, pubblico presente e chi ci segue anche da casa. Passo subito la parola al segretario per l'appello. Di Stefano, Bonato, Cagliani, Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi, Hamdi, Maderloni, Milazzo, Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini, Pogliaghi, Ricupero, Romano, Turolla, Valsecchi, Vincelli, 22 presenti, Aiosa, Fiorino, La Miranda, Lanzoni, Nisco, Paterna, Pizzocchera. Abbiamo il numero legale, possiamo proseguire, ci alziamo in piedi per il non nazionale. Pagliore, Castellini, Bogola, Ricca, GhiLA, Livio, Lanale, Ambrezza, La Viglia di Torna Grazie a tutti. 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 modo importante e che potrà dare una nuova prospettiva, così è stato spiegato nella relazione al parco Media Valle dell'Ambro. La scelta di cambiare e quindi di affidarsi al parco regionale Parco Nord è una scelta condivisa da tutti i comuni e che è stata ponderata anche rispetto alle potenzialità che a livello amministrativo e gestionale il parco Nord può offrire. In particolare la convenzione ma anche gli impegni che poi coinvolgeranno il parco Media Valle dell'Ambro sono stati anche, come è stato spiegato, collegati a un progetto presentato dal PIM, un piano integrato e è stato anche sottolineato come questa convenzione di valità biennale non comporti in questo momento per i comuni soci un costo aggiuntivo ma verranno utilizzate le risorse, i residui ad oggi presenti. Inoltre è stato anche indicato nel corso della commissione come gli interventi principali che riguarderanno il territorio di Sesto nello specifico sono degli interventi di valorizzazione e preservazione della zona vulcano, della Cava Melzi, dell'area limitrofa all'autodemolizzazione Maure e delle corrisponde del fiume Lambro vicino a via Pise e via Manin. La prospettiva che è stata poi indicata al termine della presentazione ma che in qualche modo è emersa nel dibattito che è seguito ha come punto di approdo l'ingresso potenziale del parco Media Valle dell'Ambro nel parco regionale Nord Milano. È stato anche spiegato come ad esempio invece il comune socio di Monza abbia pur approvando il percorso ma già manifestato l'interesse e la volontà ad uscire dal lente parco e al tempo stesso è stato chiesto chiaramente rispetto al tema dell'esondazione rispetto al parco, al tatto dell'Ambro che passa nel comune di Sesto e qui è stata data garanzia che comunque le aree fluviali sono al momento, hanno adeguate vie diciamo bacini di raccolta. Questo è quello che è stato presentato e discusso nella commissione. Grazie a lei, consigliere Madi Arloni, se la sessore finisce d'accordo passa la parola al presidente Marzolati. Grazie. Pronto? Così. Bene, grazie. Buonasera a tutti e a tutte voi. Ringrazio il presidente del consiglio anche per lo spostamento del punto del giorno. Ringrazio molto così riesco ad andare a casa prima, vi lascerò, non sto qua fino alla fine dei vostri lavori. Ringrazio il sindaco per la cortesia e l'assessore Fiorino con il quale collaboriamo. Purtroppo non sono riuscito neanche a cambiarmi, mi riprendete come sono perché oggi è stata una giornata di sopraluoghi, siamo stati molto in giro. Allora voglio solo dirvi che sono onorato di essere del consiglio comunale di Sesto San Giovanni perché è una città importante, punto, e poi è importante per il parco. Ringrazio sempre il sindaco che è stato attento, io sono quattro anni che faccio presidente, per me è stato un onore, lo è tuttora e soprattutto perché abbiamo interpretato, permettetemi proprio due parole sole, il parco come servizio alle amministrazioni comunali, un servizio che riguarda il verde ma sempre di più riguarda anche i problemi della sicurezza perché abbiamo una città, delle città complicate e quindi il parco sapete è un parco buio, senza luce, è un parco grandissimo, sono quasi mille ettere ormai con la valossa, quindi i problemi della fruizione, 3 milioni e mezzo di persone che l'anno scorso hanno visitato il parco contate dai passaggi e dopo il covid questa cosa è ultimamente aumentata. Io ringrazio anche il sindaco e l'amministrazione perché hanno saputo durante un periodo anche difficile economico sostenere di più il parco, sono i primi che hanno fatto un passo, siete i primi che avete fatto un passo di aumento della quota di quel periodo lì perché sappiamo che la situazione è critica per tutti, però ringrazio proprio l'amministrazione per questo passaggio significativo, il parco ha un bilancio di circa 5 milioni di euro che vengono investiti nel territorio, ma sottolineo che siamo stati capaci, grazie ai tecnici che ci sono, sono 40 persone che lavorano lì, di sviluppare circa il 15% del budget da progetti che facciamo noi, attraverso i comuni però, la nostra comunità, quindi progetti live, progetti europei, noi facciamo consulenze oggi a tutte le amministrazioni di città metropolitana attraverso Forestami ma anche attraverso proprio progettazioni sul territorio, questo grazie alla fiducia della comunità, io ho voluto, ne abbiamo parlato molto all'inizio anche con l'assessore del fatto che la comunità per me è molto importante e questo vi ricordo quest'anno sono 40 anni dalla legge regionale, la legge nostra è la legge migliore, nel senso che è una legge che ha creato l'area protetta prima della 394, la legge nazionale e soprattutto ha fatto una cosa molto importante, ha lasciato il potere di decisione e di coordinamento ai comuni, alle realtà locali, è una legge molto sussidiare, non succede così nelle molte regioni del nostro paese dove la regione gestisce lei tutto, nel senso nomine i presidenti, i direttori, qua non è così, c'è una grande forza delle autonomie locali e quello che posso dirvi è che la comunità nostra del Parco Nord Milano è quella più proattiva, nel senso che fare un parco in area urbana è complicatissimo e sapete benissimo, non devo dirlo qua, le origini di questo parco e anche la grande dedizione delle amministrazioni. In particolare l'oggetto della Libera che sono onorato di presentare, in questo senso ringrazio l'assessore con cui ci siamo confrontati e ringrazio anche Casati che è il tecnico che ha seguito per tutti questi anni questo lavoro, sapete che la politica è molto importante ma se non ha poi una competenza tecnica che lavora a fianco le cose non vanno a terra e io devo dirvi che l'estensione di questo plis è elevata, stiamo parlando di quasi 660 ettari, quindi quasi parco nord se vogliamo, è più complicato perché segue un torrente ed è un fiume ed è per questo che questo fiume oggi sempre più con la crisi climatica può creare dei problemi. Avere un parco è stata una grande intuizione, è stato allargato anche a Milano e quindi questa cosa ci permette di arrivare proprio al Parco Lambro di Milano e credo che il lavoro che avete fatto voi è significativo e molto interessante perché è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia con la legge 28 che è una legge successiva del 2016 di pianificazione, diciamo così, delle aree protette in area vasta. La nostra area vasta è quella metropolitana e si è saputo, voi avete saputo con la gestione fatta finora, ottenere l'autonomia, quindi ottenere il riconoscimento regionale per l'autonomia economica e di gestione. Quindi non stiamo parlando di una convenzione che nasce perché c'è un problema, perché non sapevate gestirlo, lo dico così, anzi stiamo parlando di una convenzione perché si vuole fare un salto di qualità e questo è il dato secondo me significativo che è stato espresso ed è per questo che ancora per noi il Parco Nord Milano è un onere impegnativo a cui dobbiamo poi rispondere. Spero di tornare in questo consiglio portando dei risultati. Quali sono i risultati dei 90 mila euro che voi avete messo in questa delibera che sono molto preziosi perché oggi il denaro è preziosissimo soprattutto così in parte corrente insomma quando arriva dalle amministrazioni. Vedremo di metterlo a frutto soprattutto nelle progettazioni, cioè di allargare, metteremo una persona apposta per questo come è stato fatto con i comuni di Sesto, con Casati che ha fatto un lavoro ottimo e quindi ereditiamo un bel lavoro tecnico, su quello costruiremo le progettazioni e speriamo di arrivare al 15-20% di aggiunta di risorse così come abbiamo fatto nelle altre a Reparco. Perché è importante questo, please? Perché si collega in un'area post-industriale altamente edificata con grandi contraddizioni ed è un'area che quindi è soggetta a finanziamenti. Quindi sostanzialmente sempre quando ci sono delle difficoltà ci sono anche delle opportunità e noi le sfrutteremo tutte. L'obbligo nostro nella Convenzione è quello di creare la comunità come l'abbiamo al Parco Nord, quindi noi coordineremo la comunità dei comuni. Quindi non faremo scelte se non in modo condiviso. Questo è il passo che abbiamo fatto anche il Parco Nord in questi quattro anni perché credo che il rapporto con la comunità non sia un fatto accidentale, è un fatto costitutivo del nostro Parco e quindi anche del please. Cosa voglio dirvi? L'altro aspetto importante, la Regione finalmente ha rimesso in piedi questa giornata del riconoscimento alle guardie ecologiche volontarie, l'abbiamo fatta domenica al campo dei Fiori di Varese, l'abbiamo però ospitato da noi il Parco Nord Milano per la prima volta l'anno prima del Covid. Quindi sono 2.400 le guardie ecologiche volontarie in regione, noi al Parco Nord abbiamo 100, 120, 100 operative, 120 registrate e quindi le guardie ecologiche del please faranno parte di un corpo più vasto e l'idea è quella di estendere la possibilità di controlli anche a quest'area, ma le guardie ecologiche non fanno solo i controlli, non è un altro, non ha lo scopo della punizione, ha lo scopo dell'educazione alla base del suo statuto, del suo lavoro e quindi subito cercheremo di aprire un nuovo bando per poter proporre a giovani e a persone del territorio la possibilità di far parte di questo corpo di vigilanza che è un corpo anche educativo. L'aspetto che poi viene toccato dal piano e quindi è importante che questa delibera abbia già un'approvazione di un piano, cioè quindi è molto pragmatica come noi vogliamo, cioè ci dice già cosa dobbiamo fare, potrebbe essere vista come problematica diciamo così che è solo di due anni, però credo che questo sia un valore perché mette un po' noi, fra due anni dobbiamo darvi dei risultati e su questi costruiremo poi il futuro, ma poi soprattutto ci dà la possibilità di verificare anche nella presentazione che è stata data con Monza eccetera, quali sono effettivamente poi gli obiettivi che questo territorio vorrà darsi. Evidentemente la rete ambientale, ecologica, soprattutto quando insiste in un fiume con i problemi idrogeologici che dicevo prima, con necessità che la popolazione ha di spazi ambientali, di spazi verdi, è oro, oro colato, cioè è proprio una cosa che è molto preziosa. Quindi io credo che, non ho altro da aggiungere, sono qua anche per rispondere se ci sono poi da parte dei consiglieri o dei sessori delle domande, ma fare questo passaggio ai 40 anni della legge regionale di un PLIS, quindi un parco locale di interesse comunale, è un passo importante e sono orgoglioso e contento che si faccia qua da voi a Senso San Giovanni, anche perché, badate bene, che si dice sempre che i parchi sono all'inizio, si diceva un po' che limita lo sviluppo di una città, oggi non è più così. Non è più così grazie alle grandi relazioni che abbiamo e i PLIS sono stati costituiti dai sindaci, anche i parchi regionali, ma soprattutto i PLIS, perché sui PLIS non viene delegata, diciamo così, la parte urbanistica, ma è forte il radicamento e infatti c'è un'approvazione regionale anche in questo caso e anche in questo caso la legge regionale Lombarda è stata premonitrice, forse un po' quella toscana ci imita, perché noi abbiamo lasciato i sindaci anche la possibilità di costituire aree verdi così delicate con il consenso popolare, perché senza il consenso popolare io credo qua non si fanno le cose e quindi anche qui deve essere desiderata la natura, non può essere solo imposta, se no faremmo sindaco dei passaggi autoritari che credo non vadano bene, neanche quando le cose sono molto giuste, anche se bisogna guidare un po' le persone ad andare verso le cose positive, però bisogna sempre spiegarglielo, educarle in questo senso. Per finire, davvero ringrazio l'assessore perché questi mesi di collaborazione che ci sono stati sono stati estremamente positivi, nella comunità c'è l'apporto vostro, è continuo, non è mai mancato e su questo noi basiamo la nostra capacità di azione, senza una coesione istituzionale il parco che ha questo compito di servizio, io l'ho interpretato dall'inizio così, perché voi fate politica nei nostri territori, a me spetta rispondere ai sindaci su cose concrete, gestendo il bilancio e le risorse che ci date che sono preziosissime. Grazie. Grazie a lei, Presidente Marzorati, del suo intervento, del suo tempo, passo la parola all'assessore Fiorino. Grazie, Signor Presidente, buonasera a tutti, buonasera signor Sindaco, buonasera ai consiglieri, al pubblico presente. Molte delle cose sono già state dette e quindi cercherò di essere conciso il più possibile. Questa sera viene sottoposta al Consiglio Comunale la proposta di delibera per l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, PLIS, Media, Valle dell'Ambro, tra il Parco Regionale e Nord Milano e i comuni aderenti al PLIS, che come avete sentito prima parliamo di Sesto San Giovanni, Monza, Milano, Brugherio, Cologno, Monzese, e dell'allegato programma pluriannale degli interventi del PP, del PLIS redatto dal Centro Studi PIM. La necessità di una nuova convenzione discende dal fatto che la precedente era scaduta nel 2020, oltre alla volontà di valorizzare le aree ricompresse nel Parco Locale attraverso una gestione qualificata e strutturata come il nostro Parco Regionale Nord Milano. Per questo io ringrazio lei, Presidente Mazzurati, per aver accettato il nostro invito e la sua presenza in Aula questa sera. Il Parco Nord Milano è limitrofo alle aree inserite nel nostro PLIS, così da costituire un'opportunità di armonizzazione delle aree comuni, garantendo sia sotto profilo organizzativo che professionale una gestione qualitativa di indubbia riconosciuta capacità. La visione unitaria del territorio non può che garantire anche una uniformità dello sviluppo ambientale e urbanistico in ampia scala. Nello spirito di massima partecipazione e condivisione tra strutture pubbliche, i comuni parenti al PLIS e al Parco Nord Milano hanno condiviso il testo della Convenzione che questa sera viene presentato come allegato alla delibera, in cui vengono disciplinati i rapporti di gestione per i prossimi due anni. In questo lasso di tempo, diceva anche il Presidente, sarà possibile per entrambi di poter valutare la potenzialità e i benefici che ne scaturiranno. Sotto il profilo economico, si evidenzia che i costi della gestione sono, per i primi due anni, coperti da fondi già accantonati nel bilancio dell'ente a seguito di quote versate dai comuni soci negli anni passati. Oltre alla Convenzione, viene proposto in approvazione il piano plurinale degli interventi, il PI, redato dal PIN sulle aree del PLIS. Questo strumento ha funzione operativa, dicevamo, di rapportarsi tra gli strumenti urbanistici comunali e gli obiettivi che stanno alla base della volontà costitutiva del PLIS. Il piano del PP si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi e in coerenza con le provisioni del PGT. Il PP si articola in una fase analitica, in una fase propositiva, in cui sono stati individuati 13 ambiti di intervento su tutta la dorsale dell'Ambro, che corre nei territori dei comuni aderenti al PLIS. Di questi ambiti, ben cinque riguardano il territorio del Comune di Sesto San Giovanni, poi ve li citerò uno alla volta. Prendendo spunto da questo strumento, l'amministrazione ha già attuato uno di questi ambiti, andando a sviluppare una convenzione con l'operatore privato e riuscendo a creare una prima rete ecologica in un ambito compromesso, come risulta essere il nostro territorio, in cui l'antropizzazione la fa sicuramente da padrona. L'area è di ben 30.000 metri quadri, che sarà ceduta a breve al Comune. Risulta essere una porzione di area utilizzata per anni come cava, che tutti ricordiamo e conosciamo la cava Mezzi. Consigliere Cagliani, noi siamo vecchi, compresa la stessa tra la tangenziale e il fiume L'Ambro, riportandola nei prossimi anni alla propria naturalità e friubilità da parte dei cittadini, mediante la formazione di ampi spazi verdi e di percorsi ciclopedonali. Questa importante occasione di riqualificazione in uno spazio utilizzato per fini produttivi per anni verrà restituito quindi alla nostra città e svolgendo anche la funzione di corridoio ecologico lungo il corso d'acqua con un disegno finale che corrisponde a quanto impresso nel PP, questa sera noi stiamo proponendo di approvare a voi consiglieri. E sempre su questi principi stiamo avviando un tavolo di lavoro con un altro ambito individuato nel PP che è l'area Mauro. In questo caso il PLIS si configura come un tassello di particolare rilievo per il disegno della rete ecologica urbana per ricostruire aree marginali. Vi dicevo prima che le aree di interventi che verranno fatte sono cinque. E nell'esattezza parlo della zona Vulcano, la zona Mauro che è quella zona della demolizione che per anni è rimasta abbandonata o in cattivo uso, la sponda di via Pisa confinante con Cologno, via Manin confinante con Milano e Cologno. Scusate e per ultima ma non per ultima. No, è la nostra età, ha ragione. Quindi ha capito comunque i cinque punti, lo so, lei è sempre molto attento e preciso. La Cava Melzi, come dicevo prima, 30.000 metri quadri che andiamo a ridare al nostro territorio e lasciatemelo dire anche come assessore alla qualità urbana e al verde è un momento per me di grande soddisfazione e anzi ringrazio il Sindaco che mi ha dato questa delega temporanea per poter lavorare su questo ambito. Io credo che sia una delibera che faccia bene a tutti noi, a tutta la città, che non appartenga a una sponda o all'altra della politica ma appartenga a tutta la città. Ne sono fortemente orgoglioso, non l'ho creata ma l'ho chiusa e questo mi fa estremamente piacere. Grazie a tutti. Grazie assessore. Apro a questo punto la discussione, ricordo i 10 minuti per un singolo consigliere più 10 minuti di raddoppio tempi. Ci tengo a precisare una cosa, così solo per ordine dei lavori. Io imposterò il tempo dei 10 minuti per ogni consigliere, poi se andate ad utilizzare i raddoppio tempi, io non vi sto ad interrompere, così almeno non interrompo appunto il vostro discorso. Apro la discussione. Se qualcuno vuole intervenire si può prenotare. Grazie. Presidente Madi Arloni, a lei la parola, grazie. Grazie Presidente, ancora rinnovo la buona serata a tutti gli assessori, consiglieri, Presidente e chi ci segue da casa e in presenza. E' stato detto nella relazione del Presidente e dell'assessore tante cose che spiegano come questo progetto sia il frutto di un percorso iniziato molti anni fa su visione delle amministrazioni, a cominciare nel caso del Parco della Mediavalle dell'Ambro, anche dal Comune di Sesto che si è poi unito al nucleo fondante e che però ha visto comunque la nostra città cuore di questo progetto. Come Partito Democratico siamo contenti che si sia rigiunti a questo punto del percorso che è stato iniziato alcuni anni fa e che in qualche modo pone dei principi, dei baluardi che per noi sono importanti. Provo a dire che cosa per noi come Partito Democratico è positivo di questa delibera ma soprattutto è la prospettiva che questa delibera apre per il futuro dell'attuale PLIS. E' come dicevo una prospettiva molto importante per la salvaguardia del nostro territorio e in particolare nella prospettiva che il Parco Mediavalle dell'Ambro possa entrare nel Parco regionale del Parco Nord e che in sinergia con, visti anche i confini, con il Parco Agricolo Sud Milano possa dare vita, anche se magari con soggetti indipendenti come sono adesso le due realtà, a un vero grande parco metropolitano che posizionerebbe l'area metropolitana tra le primi in Europa o forse anche nel mondo per questo genere di sviluppo e di percorso dove si tengono insieme anche delle tipicità diverse perché il Parco Nord, il Parco della Mediavalle dell'Ambro, il Parco Agricolo Sud Milano hanno delle tipicità particolari che li caratterizzano e che quindi con questa prospettiva potrebbero essere ulteriormente valorizzate e salvaguardate, soprattutto perché come è stato detto in precedenti consigli comunali quando si parlava del piano di governo del territorio, in particolare la nostra città, è densamente urbanizzata e quindi avere una prospettiva di questo genere che addirittura permetta in prospettiva futura di far sì che quelle aree, quei territori siano soggetti direttamente al Parco e non più alle amministrazioni darà un'ulteriore garanzia di preservare questi polmoni verdi. Un altro aspetto che per noi è importante e che apprezziamo nella relazione che ha fatto il Presidente Marzolati è il concetto di comunità perché in effetti questi luoghi sono diventati nel corso degli anni dei luoghi di ritrovo di persone che vivono in maniera anche, utilizzando lo scuolato, in maniera diversa il Parco per cui c'è chi ci va per passeggiare, c'è chi ci va perché vuole leggere un libro all'ombra, per chi vuole giocare in uno spazio verde, lontano magari dal traffico, o anche solo per valorizzare alcuni luoghi storici della comunità e quindi conoscere la storia della comunità. Dentro il Parco Nord, ad esempio, c'è un bunker, ci sono le testimonianze del passato industriale del nostro territorio che in qualche modo sono anche valorizzate, conservate ed è importante che, come spiegava l'assessore Fiorino, anche alcune realtà che sono all'interno del Parco della Valle del Lamro possano in qualche modo essere così valorizzate e far sì che si tramandi al futuro della comunità. Quindi lo annuncio così poi, nella dichiarazione di voto sarò più breve, come Partito Democratico voteremo a favore di questa delibera, che però non vorrei che fosse un punto, e mi permetta di correggere l'assessore Fiorino, un punto di fine, ma un nuovo inizio, un nuovo inizio per una nuova dimensione che possa coinvolgere la nostra città, visto che Parco Nord ha un'esperienza consolidata, come spiegava il Presidente Marzorati, anche personale, altamente qualificato, non che prima non ci fosse, ma semplicemente perché è numericamente superiore, quindi più teste, più braccia, più pensieri, più idee possono sicuramente valorizzare meglio, difendere meglio il nostro territorio. Soprattutto, e vado a concludere, in una fase in cui il tema del clima, il tema del cambiamento climatico, il tema di come incide sulla qualità della vita l'avere delle città dove gli spazi verdi sono importanti, perché aiutano innanzitutto a ridurre, o quantomeno a contenere, l'inalzamento delle temperature. Si è stato più volte visto dove ci sono degli spazi verdi, la temperatura può sembrare poco, però è leggermente inferiore e soprattutto permette anche alle persone più fragili di avere degli spazi di riposo e di sollievo. E poi potenziare, lavorare e valorizzare questi spazi permette, in qualche modo, di aiutarci a cogliere la sfida del PNRR, quindi della transizione ecologica, e in qualche modo anche a educare alla natura, perché uno degli aspetti più importanti, è una funzione che svolge il Parco Nord, lo cito semplicemente perché da tantissimi anni fa un apprezzatissimo festival della biodiversità, le scolaresche frequentano quegli spazi, e quindi immaginiamo che in prospettiva possa valere la stessa cosa per il Parco della Media Valle dell'Ambro. Come dicevo, la consapevolezza che questo patrimonio è stato costruito e voluto, ma al tempo stesso va anche difeso, altrimenti perché ci troviamo in una situazione climatica che in qualche modo è diversa, è più faticosa, perché sono aumentati gli eventi estremi rispetto alle nostre condizioni classiche e medie, ci deve aiutare a capire l'importanza di rendere questi spazi sempre più protetti e più diffusi. E su questo penso che l'essere comunità possa aiutare. Chiudo semplicemente con una chiosa perché è stato un evento di settimana scorsa, i cento anni del CAI, durante la celebrazione è stato ricordato come l'amministrazione comunale di Sesto, nel passato, si fosse messa in gioco e a supporto del CAI nella diffusione di che cosa siano le terre alte o le comunità montane. Ecco, sarebbe bello se in qualche modo su quell'esempio noi potessimo proseguire, costruire una comunità, una coscienza che possa dire, pensiamo di avere un parco metropolitano, un parco che interessa 3 milioni e passa di abitanti, 130 comuni e che in qualche modo è il cuore attorno al quale si può puntare per avere una qualità della vita che sia migliore, soprattutto per le future generazioni. Grazie. Grazie a lei, consigliere Maderloni. Vado in ordine, do la parola al consigliere Valsecchi. Grazie Presidente, saluto il Sindaco, gli assessori, i colleghi consiglieri, il pubblico presente e anche il Presidente del Parco Marzorati che ho piacere già di conoscere per fama, ma questa sera l'ho sentita anche parlare in un intervento. Del suo intervento mi hanno colto degli aspetti interessanti che sono la presenza delle guardie ecologiche che avete al Parco Nord, con cui ho anche collaborato perché avendo organizzato degli eventi sportivi, visto che i parchi e queste aree verdi sono vissuti sì per momenti di relax, per momenti didattici, ma in certe occasioni sono vissuti anche per eventi sportivi e al Parco Nord si svolgono diverse corse di atletica in modo particolare. E quindi avendone organizzata una ho collaborato proprio, 54 hanno partecipato come sostegno lungo il percorso nel momento in cui era stata organizzata questa gara, in parte in Sesto e in parte nel Parco. Quindi la cosa che mi interessava, ho sentito proprio parlare di questa attività didattica che seguono, penso in particolare, le guardie ecologiche, quindi organizzando, non so se, delle visite guidate e accogliendo delle scolaresche. Glielo dico perché noi abbiamo una bellissima realtà dentro in una porzione del Parco Medievale dell'Ambro che è nel quartiere Cascina Gatti a Bergamella, dove sono presenti degli orti. Degli orti che sono un bellissimo progetto realizzato negli anni scorsi qui a Sesto, sono stati seguiti da Italia Nostra, che ha contribuito proprio a seguire tutto l'iter di costruzione, sono ben gestiti ancora adesso e sono molto frequentati, perché parliamo di 200 artisti familiari e quindi è una comunità molto numerosa, non solo del quartiere Cascina Gatti, ma un po' di quasi tutta la città, che ha cominciato a frequentare questa zona. La frequentazione è aumentata adesso con la creazione anche di una pista ciclabile, proprio che costeggia questi orti, e che in futuro avrà uno sbocco direttamente sulla ciclabile della Martesana. Quindi sicuramente quell'area lì sarà valorizzata ancora in modo migliore, e quindi tanti ciclisti che normalmente fanno un percorso Milano-Trezzo avranno l'occasione di entrare proprio direttamente nel nostro parco. Mi interessava l'azione didattica perché presidendo la consulta degli orti noi già facevamo in modo un po' stemporaneo delle visite guidate di scolaresche che ce lo chiedevano. Quindi la possibilità di avere più strutturato la presenza di guardie ecologiche disposte a questo tipo di attività sicuramente consentirà a tanti giovani studenti stesi non solo di avere la possibilità di visite guidate all'interno del parco, ma soprattutto proprio anche all'interno degli orti. Gli ortisti in questo momento ci sono dei gruppi che sono molto disponibili all'accoglienza di giovani, in modo tale che loro possano anche tramandare le loro conoscenze tecniche, le loro possibilità. Le piccole esperienze che abbiamo avuto hanno avuto un successo incredibile perché per dei bambini delle primarie venire a vedere, poter raccogliere, simulare una piantumazione a seconda dei periodi dell'anno in cui venivano, devo dire, l'hanno trovato un progetto interessante, le loro insegnanti lo stesso, quindi la possibilità in futuro di avere il corpo delle GEV che si renda disponibile nell'aiutare altri volontari, parlo di membri della consulta, in questo tipo di attività sicuramente sarà una valorizzazione di quell'area e degli orti in particolare veramente interessante. Quindi devo dire che accolgo molto favorevolmente che ci sia questa convenzione perché sicuramente porterà uno sviluppo maggiore di un'area nostra che sta valorizzando l'intero quartiere e sta valorizzando l'intera città anche perché sta diventando veramente molto frequentata, soprattutto nei giorni festivi. Grazie. Grazie a lei. Passo la parola al Consigliere Pogliaghi. Eccoci. Bene. Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Molto brevemente, anche a me questa delibera mi ha raccolto molto favorevolmente anche per i punti salienti che sono stati raccontati dal Presidente che ringrazio, dal Presidente di Parco Nord, sapendo che Parco Nord è indubbiamente un'eccellenza, un'eccellenza di modello sia di gestione sia per come è nato e come si è sviluppato e quindi auguriamo al Mediavalle dell'Ambro e al Plis questo identico percorso. Dio Scuola Consigliere può avvicinarsi più al microfono? Grazie. Più attaccato. In particolare alcuni punti che vorrei sottolineare che partono evidentemente dalla legge di Regione Lombardia, dal riconoscimento dell'autonomia, così ha citato il Presidente di Marzorati che sono quelli che permettono poi al Comune di lavorare, al Comune di cogliere le opportunità di cui si è parlato, le opportunità che sono necessarie nel nostro territorio. Io faccio fra i vari incarichi istituzionali il Presidente di Consulta dell'Ambiente, ecco Consulta dell'Ambiente è un organo che all'interno del nostro Comune è molto teso vista la situazione complicata di una città così densamente urbanizzata, così schiacciata, così affollata diciamo così e quindi la possibilità di un parco, di un sistema di parchi ancora di più è veramente un'opportunità unica. Devo dire l'altro punto fondamentale secondo me è stato raccontare di coesione istituzionale perché queste operazioni e motivo su cui siamo poi in Delivera questa sera si può arrivare qua solo con un lavoro coeso, quindi in questo caso non stiamo guardando da una parte e dall'altra dove non è nato ma la possibilità concreta che si arrivi attraverso un lavoro tecnico che è indubbio necessario, si arrivi a mettere a terra un progetto che può svilupparsi nel futuro. Su questo ringrazio davvero e sicuramente il nostro parere e il mio parere è assolutamente favorevole su questa Delivera. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Io intanto partirei davvero col ringraziare il Presidente Marzorati perché questa sera, a differenza della scorsa, io credo che si sia visto quel rispetto istituzionale di una istituzione per un'altra istituzione ma soprattutto per i cittadini e per le cittadine che rappresentiamo questo anche solo grazie alla sua presenza, a quello che ci ha portato e ci ha riportato. Sono stato contento di sentire nel suo intervento, sono stato felice, lo dico in modo assolutamente non provocatorio, di sentire nel suo intervento dell'attenzione che questa amministrazione comunale e immagino anche la precedente hanno avuto per il parco. Lo dico assolutamente senza provocazione perché penso e sono d'accordo con quanto diceva prima l'assessore Fiorino che questa non debba essere una cosa di destra o di sinistra di una parte o dell'altra ma una cosa di cui possiamo e dobbiamo essere orgogliosi orgogliosi tutti. Sono d'accordo col Presidente quando dice che in questa regione abbiamo una buona, ho dovuto studiarla e leggerla per ragioni lavorative, abbiamo una buona ottima legge regionale perché regolamenta queste tematiche, soprattutto secondo me e sono d'accordo sul tema dell'autonomia di questi enti, di questi parchi. L'autonomia in certe cose ci piace, in certe cose soprattutto quando si eccede un po' ci lascia, ma in questo caso assolutamente siamo contenti di quanto quella legge dia possibilità alla nostra regione. e prima diceva il Presidente qualcuno dice che i parchi sono qualcosa che limita, sì possiamo dirlo, sono qualcosa che limita, che limita la cementificazione continua, soprattutto in una regione come la Lombardia che è o la più cementificata d'Italia o una delle più cementificate d'Italia. Anche sulla riduzione di consumo di suolo e abbiamo una ottima legge, io credo, in Lombardia come sulla rigenerazione urbana. Il problema è che poi se ci riconosciamo, se ci dicono i dati che siamo una delle regioni più cementificate d'Italia, evidentemente qualcosa non torna. Forse a queste due leggi ci sono un po' troppe deroghe che poi permettono di passare da una palazzina di due piani a una di 14, ma certo che se lo facciamo per cercare il prossimo premio Nobel, come diceva l'altra volta l'assessore La Miranda, forse può valere. A parte le provocazioni, davvero sono d'accordo con l'assessore Fiorino quando dice, lo ripeto, quando dice che questa non deve essere vista come una cosa di parte, una cosa di cui possiamo essere orgogliosi tutti. Siamolo, facciamolo. Il nostro voto, mi toccherà poi votare contrario a tutte quelle dopo, evidentemente, perché in questo caso purtroppo mi tocca essere, no, felicemente mi tocca essere favorevole. Bello è stato il passaggio dell'assessore che dice questa cosa non l'ho cominciata io e su chi l'ha cominciata permettetemi di mandare un saluto a Luca Ceccatini che è stato l'ultimo presidente del Parco Mediavalle dell'Ambro e a Marco Troiano che è stato il primo presidente dell'Assemblea dei Sindaci, che questa cosa l'hanno molto spinta tanto tempo addietro quando è iniziata e loro l'hanno iniziata, l'assessore Fiorino la sta finendo e la sta concludendo insieme al presidente Marzorati. Orgogliosamente voteremo a favore. Passo la parola alla consigliera Pagani, prego. Sì, grazie presidente, buonasera a tutte e tutti. Sarò molto breve perché molte cose sono state dette e soprattutto perché confermo che anche da parte di città in comune non abbiamo riscontrato che sono elementi di problematicità. Insomma, rispetto a questa delibera, anzi, volevo riprendere, intanto volevo ringraziare anche io, ma è doveroso farlo, insomma, il presidente. Devo dire che insieme ai contenuti una delle cose che mi ha colpito di più della sua relazione è la grande energia che ci ha messo e anche la grande passione, che è una cosa che, come dire, connota sempre un po' insomma il modo di lavorare delle persone e anche, come dire, poi delle entità e delle funzioni che rappresentiamo perché comunque rappresenta, come dire, un pezzo assolutamente importante. Io, quello che mi viene in mente di aggiungere rispetto alle riflessioni che sono state fatte questa sera e che io condivido tutte, tra l'altro, è questo. Quando è nata l'ipotesi del Parco Nord è stata quasi una visione, almeno io ero molto piccola, insomma, quindi ovviamente non mi ricordo, no? Però l'idea, l'intuizione è anche poi la grande determinazione nel portare avanti questo progetto e quindi, come si dice spesso, il fatto di avere una visione ci permette con determinazione di raggiungere degli obiettivi, ma ci dà anche la possibilità di guardare in una dimensione che è molto più ampia rispetto alla concretezza, no? C'è sempre un po' anche una dimensione di sogno e di idealità che poi, come dire, si è concretizzata in uno spazio che io credo che nessuno, a nessuno di noi nessuno di noi debba spiegare quanto è importante il Parco Nord per la nostra città, ma non solo per milioni di motivi e io credo che ancora di più l'abbiamo capito dopo l'esperienza del Covid quanto fosse importante, non mi stupisce quello che diceva il Presidente, ma che abbiamo già detto più volte anche all'interno di questo Consiglio Comunale che le abitudini, diciamo, dei cittadini ma non solo se stesi, è evidentemente un trend nemmeno solo italiano e nemmeno solo europeo sono profondamente cambiate e la necessità di riconquistare degli spazi molto più vicini alla natura ha ricostruito un senso diverso della qualità della vita e del bisogno di avere una qualità della vita differente. Quindi mi piace pensare, rispetto a questa visione che c'è stata e poi sicuramente la determinazione di tutti di portarla avanti, mi piace pensare che quello che raccoglie insomma questa idea e anche un po' sogno, idealità, ma concretezza anche che ha proposto il Consigliere di cui parlava il Capogruppo Maderloni quando parlava dell'idea di costruzione di un parco metropolitano che abbia un senso diverso al perimetro della città e l'opportunità anche da parte appunto di questo parco della media valle dell'Ambro di entrare a far parte insomma del parco regionale. Allora mi piacerebbe che guardassimo tutte le aspettative, scusate, le prospettive in questo modo cioè con la stessa tenacia, con la stessa idealità e con la stessa capacità anche di costruire qualità e quindi di sognare che hanno avuto i pionieri nel pensare insomma questo parco urbano all'interno del cuore di diverse città e che per oggi è diventato un luogo del quale nessuno di noi assolutamente può fare a meno. Grazie. Grazie a lei, passo la parola al Consigliere Gatti. Grazie mille Presidente e buonasera a tutti per cominciare dal Presidente Marzorati tutti i consiglieri alla Giunta, i cittadini presenti questa sera in aula e collegati a distanza ma sarò molto breve fondamentalmente perché mi trovo d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso su quello che possono essere, sul percorso che ci ha portati oggi qui a votare questa delibera sul fatto che sia fondamentalmente molto positivo e che ringrazio tutti coloro che negli anni hanno lavorato a questo progetto per essere oggi giunti qui. Mi permetto solamente di fare delle suggestioni che spero possano essere raccolte, se ritenute utili oppure magari lasciate sospese se così non fosse su che cosa mi auguro che possa accadere nei prossimi anni in un parco che per la nostra città è importante ma fino adesso non è mai stato così valorizzato come meriterebbe. Prima di tutto io vorrei che ereditasse il Parco Mediale dell'Ambro dal Parco Nord quella grande capacità di essere aperto, come si diceva prima, ai cittadini io sono stato uno di quei bambini che faceva le attività all'interno del Parco Nord, dalla spiegazione della flora, della fauna alla piantumazione degli alberi, sono cose belle, sono cose che arricchiscono la nostra città e che io mi auguro che fra qualche anno, fra qualche mese se saremo particolarmente fortunati possano accadere non solo al Parco Nord ma anche nel Parco Mediale dell'Ambro. E per questo in generale mi sento di dire che sarebbe molto bello se con il tempo diventasse sempre di più un parco a cui si possa avere accesso, che non venga percepito come il fiume che divide le città che ha un ostacolo alla fine, che si passa altrimenti solo dove c'è la strada, in macchina ma che possa rappresentare un collegamento, esattamente come è per sua struttura il Parco Nord che può essere la strada prediletta per attraversare da Cinisello a Bresso, da Sesto a Bresso e così via lo possano un giorno diventare anche il Parco della Media Valle dell'Ambro. E poi invece passando veramente velocemente, il mio augurio che il fiume intendo proprio veda nei prossimi anni una sempre maggiore attenzione su quella che è la pulizia e la qualità delle acque. Io troppo spesso, crescendo a Sesto, sono stato cresciuto con l'idea che l'Ambro fosse un fiume molto molto sporco a cui non avvicinarsi perché si rischia e se caschi nell'Ambro... probabilmente è un fiume molto sporco ma che mi auguro da stasera possa nel tempo conoscere sempre di più una maggiore tutela, sensibilizzazione e il fatto che ci sia anche se relativamente a Valle ci sia da parte di quattro comuni la volontà di valorizzare davvero questo tratto ci sia anche la possibilità poi di promulgare una maggiore attenzione nei confronti di eventuali scarichi abusivi non conformi che ad oggi inquinano il fiume che mi auguro che possa migliorare la sua qualità. L'ultima cosa ed è venuta fuori in commissione come diceva prima il consigliere Maderloni è quella della sicurezza del fiume semplicemente perché seppur in minor modo anche l'Ambro può essere un fiume che ha delle caratteristiche difficoltose poi in commissione abbiamo parlato in realtà pare che a Sesto siamo abbastanza tranquilli però ci sono altri tratti più a monte più a valle dove recentemente sono state diramate allerte dove ci sono state anche delle esondazioni. Quindi mi auguro semplicemente che oggi la delibera che mi pare, congliendo l'umore dell'Aula non vorrei sbagliarmi, ci veda davvero tutti d'accordo e dalla stessa parte sia il primo passo per andare anche nella direzione di queste suggestioni che siano utili e comuni. Grazie. Grazie a lei, passo la parola al consigliere Cagliani. Sì, grazie signor Presidente. Risparmio i ringraziamenti, gli applausi all'assessore eccetera che sono già stati fatti dai consiglieri in precedenza. Io c'ero già anche quando è nato il Parco Nord, non in consiglio comunale però c'ero già da allora e so che non è mai facile difendere un'area verde in una città come la nostra che è cresciuta a dismisura su questi 11 chilometri occupando ogni spazio immaginabile possibile. Quindi saluto con favore questa iniziativa che continua e che rende, sottolinea, nuovamente a questa città come da una collinetta artificiale, chiamiamola così, si restituisce un bene gradito e piacevole alla città perché lì sappiamo tutti che Falc avrà contribuito a creare l'andamento collinare di quel parco. So che tra l'altro è pieno di conigli selvatici, mi raccontano quelli che vanno col cane, che hanno il cane e che diventano matti perché corrono regolarmente dietro questi conigli, quindi è un piacere. Però ecco, ho chiesto di intervenire solo perché mi faccio l'attore di una domanda, ormai con i social si va in diretta anche con i cittadini, dice ma ne ha parlato forse il consigliere Valsecchi nel suo intervento, però mi piacerebbe sentire una conferma dal Presidente o dall'assessore. Ma la pista ciclabile in realizzazione finisce al forno o finalmente scavalca la martesana? Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi in aula? Se non ci sono altri interventi in aula, chiudo la discussione. Chiedo sia all'assessore Fiorino che al Presidente Marzolati, se vogliono intervenire, possono farlo. Grazie. Sì, la pista ciclabile è in corso, scavalcherà la martesana, è un progetto in capo cap e sicuramente andrà a compimento. Aggiungo solamente e ribadisco il concetto per quanto riguarda il fiume di cui il Consigliere Gatti è sempre molto preoccupato. Il bacino che abbiamo a protezione proprio della fuoriuscita dell'Ambro è un bacino che mette in grande sicurezza la nostra città e anche i comuni vicino. e addirittura quando abbiamo avuto dei momenti di difficoltà nel periodo di luglio e agosto, addirittura Monza era in grosso pericolo. Noi, grazie a Dio, eravamo in fase di tranquillità. Quel bacino creato è sicuramente una fonte di grande sicurezza. Poi lei sa meglio di me che sia fatta la volentà di Dio, dico una volta. Grazie. Grazie Assessore. Se non ci sono altre osservazioni, passiamo alla dichiarazione di voto. Città in Comune, Consigliere Pagani. Grazie Presidente, favorevole. Alleanza Verdi e Sinistra, Consigliere Foggetta. Prego, rischiacci, chiedo scusa. Come dicevo prima, segnate anche per dopo, tutte le altre saranno contrarie, questa favorevole. Lega Salvini Premier, Consigliere Appini. Sarà favorevole. Forza Italia, Consigliere Cupido. Grazie Presidente. Un minuto, Rubo. Perché oltre agli aspetti che sono stati colti da tutti quanti, e sono molto contenta che sia una delle prime delibere, che sia appunto accolta con questo favore, c'era un aspetto che mi colpiva e che ha sottolineato il Presidente Marjorati, e così che vorrei qui riprendere. Cioè, lei ha detto, questa è una delibera pragmatica, che vuol dire che ci troviamo davanti a un'amministrazione pragmatica. E il pragmatismo è la caratteristica di chi è capace di mettere insieme la conoscenza e l'esperienza, senza fare delle scelte avventate, ma facendo delle scelte che stiano al passo con la realtà, al passo con la comunità. Questo mi interessava evidenziarlo, e quindi concludo dicendo che Forza Italia esprime parere favorevole. Consigliere Maderloni. Scusate che non ho ancora preso la confidenza. Colgo allora l'assist della consigliera Cupido che mi ha anticipato. Essendo comuni, diciamo, governati da entrambi gli schieramenti, significa che sono entrambe, tutte le amministrazioni pragmatiche su questo tema, mi verrebbe da dire. Confermiamo, come detto nell'intervento dei vari consiglieri del Partito Democratico, il nostro voto favorevole. Gruppo misto, consigliere Vincelli. Grazie, Presidente. Saluto i presenti e saluto anche chi ci sta osservando la casa. Diciamo che la vicina Monza festeggia i 40 anni del Parco regionale della Valle dell'Ambro. Noi qui stasera, finalmente, dopo aver lavorato nella precedente amministrazione per questo progetto, diciamo che andiamo avanti. L'auspicio è quello che questa Convenzione, una volta votata e confermata da tutti i comuni aderenti alla Convenzione, e dopo l'acquisizione, per quanto riguarda l'assessore San Giovanni, di due ambiti abbastanza importanti che citava l'assessore Fiorino, si arrivi chiaramente ad avere come priorità di obiettivo il famoso Parco regionale Media Valle dell'Ambro. Visto che questa Convenzione durerà chiaramente due anni, e io qui ringrazio il Presidente Marzorati, vuol dire che ci vedremo fra due anni alla scadenza, quando saranno i 50 anni dell'inaugurazione del Parco regionale, quindi quando è stato riconosciuto il Parco Nord come Parco regionale della Lombardia. Questo è un augurio, sicuramente, che facciamo a tutta la nostra amministrazione e a tutto il Consiglio Comunale di vederci qua fra due anni, di vedere che cosa è stato fatto per quanto riguarda il Parco Media Valle dell'Ambro e quello che sarà poi l'anniversario dei 50 anni del Parco Nord. Il nostro voto è favorevole, grazie. Amiamo il sesto, Consigliere Molteni. Buonasera a tutti. Gli altri hanno già salutato, io non ho ancora salutato. Faccio mio un pezzettino dell'intervento della Consigliera Pagani, dove plaudiva al suo entusiasmo Presidente Marzorati, è proprio, beh, o è un grande attore o se no questo entusiasmo traspare, oltre la conoscenza sicuramente, tutto quello che ha enunciato. Onestamente non trovo nulla per cui il nostro voto non debba essere più che favorevole, perché questa è la mia dichiarazione di voto. Grazie a tutti. Fratelli d'Italia, Consiglio di Turolla. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Di Stefano, Sindaco, Consigliere Pogliaghi. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Grazie a tutti. Preparo la votazione. Apro la votazione. Ne manca ancora uno. Abbiamo 22 voti su 22, 22 voti favorevole. La deriva la viene approvata. Procediamo per l'immediata eseguibilità. Con 22 voti favorevoli su 22 voti validi, dichiaro la delibera esecutiva. Grazie, ringrazio ancora e saluto il Presidente Marzolati. A questo punto riprendiamo l'ordine dei lavori così come era in programma. di nuovo, grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passiamo al punto numero 1 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 186 del 28.09.2023 Adottate i sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, proposta di delibera a firma del sindaco Roberto Di Stefano, al quale passo la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti quanti, al Consiglio, ai cittadini collegati e a quelli presenti. Una ratifica di giunta, la 186, che apporta una variazione d'urgenza al bilancio previsionale sul bienio 23-24, sia per la parte in entrata che per la parte di spesa, sulla base di due progetti. Il primo del PNRR 162.748 euro in entrata e in uscita per la piattaforma digitale nazionale dei dati al fine di affidare i servizi entro il termine della rendicontazione. E il secondo di 50.074 euro sul bando regionale la Lombardia e dei giovani, finanziato appunto da regione al fine di trasferire i fondi ricevuti e i partner coinvolti all'interno del progetto entro i termini del bando. Si chiede al Consiglio di ratificare quella che è stata una delibera d'urgenza proprio per rimanere all'interno dei tempi delle scadenze del bando e della rendicontazione e di dar atto del permanere degli equilibri di bilancio a conclusione della variazione di bilancio. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Apro la discussione. Chi vuole intervenire può prenotarsi. Passo la parola al Consigliere Maderloni. Grazie Presidente. Intervengo perché come Partito Democratico, pur riconoscendo la capacità dell'amministrazione... Mi richieda cortesemente la parola. Chiedo scusa, prego. Ci mancherebbe, nessun problema. Dicevo, pur riconoscendo la capacità di questa amministrazione di ottenere spesso bandi e finanziamenti, ne abbiamo avuto ad esempio, ne abbiamo discusso anche in quest'aula sul bando delle piscine che aveva un cofinanziamento regionale e cogliendo da un punto di vista tecnico i necessari caratteri di urgenza e la indicazione di verso quali enti viene o quali soggetti viene destinato parte del contributo, La mancanza che a noi lascia un attimo in sospeso è il progetto specifico perché anche controllando, nei confronti che abbiamo avuto con gli altri consiglieri di opposizione, anche sul sito di Generazione Lombardia, non sotto la voce del Comune di Sesto, non vediamo esplicitati come AFOL spenderà i 15.074-35 euro. Io ho riascoltato la commissione e non ho trovato riferimento, ho sconsuato i documenti, ma probabilmente non l'ho trovato, così come l'associazione Remind. E allora la domanda è questa, la considerazione politica è questa. Bene che arrivino dei finanziamenti, ma è altrettanto bene che sia chiarito e chiaro come vengono impiegati, nello specifico, su quale tipo di progetto AFOL investirà quella cosa e che sia data evidenza. L'urgenza la capiamo, ma l'urgenza deve essere anche collegata al fatto della chiarezza verso il quale questa destinazione, di queste risorse pubbliche vengono destinate. Grazie. Grazie Alexia Marleroni. Passo la parola alla consigliera Pagani. Sì, grazie Presidente. Intervengo subito dopo il capogruppo Maderloni perché ha detto, ha sottolineato in parte alcuni aspetti che volevo sottolineare anch'io. fermo restando che noi abbiamo fatto una terza commissione che sappiamo tutti faticosa, che è durata molto, o meglio una commissione congiunta in cui la terza commissione era una parte di quella commissione che è stata anche interrotta su nostra richiesta naturalmente perché era arrivato un tempo abbastanza tardo, soprattutto eravamo in commissione da più di cinque ore, forse non eravamo più in grado di recepire diciamo così alcun argomento e di conseguenza, siccome gli argomenti all'ordine del giorno erano argomenti interessanti e importanti, meritavano tutta la nostra attenzione. Quindi, quello che mi verrebbe da dire rispetto a questa discussione che riguarda naturalmente è una partita di variazione di bilancio, questo è evidente, perché l'abbiamo discusa nella commissione 1, non l'abbiamo discusa evidentemente nella terza commissione, però, ecco, valutare una variazione in ordine meramente tecnico, voglio dire, va bene, poi c'è una maggioranza, lo farà la maggioranza. Io sono andata un po' a guardare per capire la Lombardia dei giovani, questo bando, ho trovato tra l'altro delle cose interessanti, ho visto che la regione Lombardia ci ha messo un importo di finanziamento su questo bando che è addirittura al doppio rispetto all'anno precedente, quindi un investimento che secondo me è importante rispetto a tutte le politiche giovani. Mi sono appuntata alcuni aspetti di questi progetti, ovviamente descritti in maniera macro, cioè grande, non è che lì c'era descritto il nostro progetto, o meglio, poi c'erano tutti i progetti vincitori e alcuni dei progetti vincitori, o meglio, e alcuni dei soggetti che erano i vincitori di bando, come poteva essere appunto il comune di Sesso San Giovanni, avevano anche allegato il progetto, quindi era in ordine di trasparenza già visibile. Molti non c'erano, devo riconoscere che non era soltanto il comune di Sesso San Giovanni, però mi interessava capire che cos'era e soprattutto anche, come si concretizzano questi investimenti che sono significativi, perché se aumentano del 50%, sono significativi, sono un altro rispetto a quello dato, poi sul tema non lo so. E ho visto che sono soprattutto progetti, l'ambizione era quella di finanziare progetti, soprattutto nei territori dove servizi e azioni per i giovani c'erano poco, con un'ottica di inserire questi progetti, perché il capofila ovviamente è l'amministrazione comunale di Sesso San Giovanni nel nostro caso, ma di inserire anche i partner locali, pubblici e privati, perché è proprio il coinvolgimento dei partner locali che sottolineava come permetteva le azioni progettuali di essere maggiormente capillari sul territorio naturalmente. E quindi ho cercato un po' di capire o carpire, ma era poco plausibile da un certo punto di vista, insomma, gli schemi. Sono andata a guardare questa associazione che si chiama Remandi, di cui evidentemente non parlo perché non la conosco, ho visto che non ha sede a Sesso San Giovanni, credo a Brugherio, ho visto quello di cui si occupano e mi è sembrato interessante, ho visto che le loro attività sono rivolte prevalentemente alla fascia, diciamo così, fino alla fascia preadolescenziale. E allora, siccome questo bando in realtà si sottolineava che coinvolgeva, rivolgeva, diciamo così, aveva come obiettivo il raggiungimento di strategie, azioni, eccetera, eccetera, che riguardava i Lombardi dai 15 ai 34 anni. E soprattutto, continuo a ribadire, continuiamo perché, insomma, a ribadire che nella nostra città c'è poco per i ragazzi più grandi, no? Quelli dai 15 anni in su, 14 anni in su. Ecco, mi piacerebbe che su questo, in ogni caso, si facesse un ragionamento. Io non conosco, non ricordo, di essermi confrontata su questo, il progetto in essere, ho visto e mi sono fatta un'idea sulla base di quelli che sono gli obiettivi strategici, diciamo così, dell'associazione Convolta, fermo restando che l'altro partner in realtà è l'Affol, che invece ha a che fare con un'età più grande rispetto a quella preadolescenziale e quindi, insomma, sarebbe interessante anche capire in che termini appunto questi progetti prendono avvio e poi provano a costruire, come dire, dei germi che poi si, appunto, capillarizzazione significa che si radicano nel territorio e poi vivono e continuano a vivere indipendentemente dal fatto che un anno abbiamo vinto un bando, perché altrimenti, l'anno dopo, se non ci sono i soldi per il bando, può essere che questi progetti non ci possano più essere. Quindi, volevo manifestare anche da parte di Città in Comune queste perplessità. Grazie. Grazie. Passo la parola al Consigliere Foggetta. No, sarò molto veloce. Anch'io ho le stesse, appunto, perplessità dei gruppi, dei rappresentanti dei gruppi di opposizione che hanno parlato prima di me. Sappiamo chi andiamo a finanziare, non sappiamo cosa andiamo a finanziare. Ma il mio, più che un intervento, è un qualcosa al limite tra la provocazione e il no, e lo riprenderò dopo in dichiarazione di voto. Mi aspetto che, siccome fino adesso hanno parlato i tre gruppi di opposizione presenti, dopo il mio intervento, probabilmente interverranno quelli di maggioranza e ci spiegheranno quali progetti stiamo andando a finanziare. Altri interventi in aula? Grazie. Non ci sono altri interventi in aula? Chiudo la discussione. Passo alla dichiarazione di voto. Città in Comune, Consigliere Pagani. Grazie, Presidente. Allora, per le perplessità espresse, sicuramente il nostro voto di assenzione. Grazie. Alleanza Verdi, sinistra e sinistra. Chiedo scusa, Consigliere Foggetta. Niente, vedo che la provocazione è caduta nel nulla. Mi aspettavo che arrivasse un intervento dai gruppi di maggioranza. Non è arrivato, perché evidentemente anche loro non sanno che cosa stiamo andando a finanziare. Evidentemente, però, loro voteranno a favore. Evidentemente, c'è probabilmente una fiducia cieca nel sappiamo che farete bene, quindi vi diamo ragione. Evidentemente è un po' questo il modo di fare politica sul quale noi non possiamo, credo, tutti i gruppi che sono da questa parte questa sera, attestarci. Anche il mio sarà un voto di assenzione. Lega Salvini Premier, Consigliere Appini. Pronto. Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Forza Italia, Consigliere Cupido. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Partito Democratico, Consigliere Maderloni. Come espresso nell'intervento, come Partito Democratico, apprezziamo il fatto che ci siano dei finanziamenti anche in realtà come AFOL e quindi votiamo con un'astensione su questa delibera per quanto detto prima. Grazie. Gruppo misto, Consigliere Vincenzo. Grazie, Presidente. Apprezzo l'astensione da parte delle minoranze, però vorrei riportare a che cos'è l'ordine del giorno per quanto riguarda questa delibera. È una delibera tecnica, per cui non si entra chiaramente nel merito, ma si può entrare poi nel merito o all'interno delle commissioni o chiaramente in precedenza ai Consigli. Quindi è una delibera tecnica e va votata per quello che è. Teniamo presente che nel 2023 saranno 100.000, 075, nel 2024 112, 748. Ottimo. Quindi come delibera chiaramente tecnica è favorevole. Ammiamo sesto, Consigliere Moltene. Grazie, Presidente. No, questa volta è arrivato prima del presidio. No, il nostro voto sarà favorevole. In merito al discorso del non intervento, le cose sono state spiegate ampiamente in commissione, eccetera. Non abbiamo bisogno di rifare l'eco alle cose già spiegate, per quello che mi riguarda. Comunque il nostro voto sarà favorevole. Fratelli d'Italia, Consigliere Turò. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Di Stefano Sindaco, Consigliere Pogliaghi. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Grazie a tutti. Preparo la votazione. Apro la votazione. Grazie. Abbiamo 22 voti validi, di cui 16 favorevoli e 6 astenuti. La delibera viene approvata ed è esecutiva. Passo al secondo punto all'ordine del giorno. Interventi di somma urgenza a seguito di eventi atmosferici avversi da effettuare presso il nido Savona. riconoscimento della spesa ai sensi degli articoli 191,3 e 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000. Proposta di delibera a firma del Sindaco di Stefano, a quale passo la parola per la presentazione. Grazie, Presidente. A seguito degli eventi atmosferici avversi caratterizzati da un intenso rovescio temporalesco che ha interessato la nostra città, è stata fatta una delibera di giunta per approvare una procedura d'urgenza per realizzare dei lavori di messa in sicurezza all'asilo nido di via Savona. Per un ammontare complessivo di 19.406 euro. Con la delibera di giunta 184 del 2023 si è provveduto a finanziare la spesa prendendo le risorse dal fondo di riserva ordinario opportunamente. Per quanto riguarda l'importo d'urgenza con delibera del 184 del 2023 si è provveduto a finanziare la spesa mediante il prelevamento al fondo di riserva ordinario opportunamente stanziato nel bilancio di previsione 2023. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di riconoscere la legittimità della spesa dei lavori di somma urgenza per l'importo appunto di euro 19.406 e che tale importo viene stato recuperato attraverso un prelevamento dal fondo di riserva ordinario. Grazie. Grazie al Signor Sindaco. Apro la discussione. Se qualcuno vuole intervenire chiedo di prenotarsi. Passo la parola al Consigliere Gatti. Grazie Presidente. Buonasera di nuovo a tutti. Allora io sul merito di questa delibera che anzi come diceva prima il Consigliere Vincelli se la prendiamo con una delibera tecnica va bene la votiamo ma credo che il nostro ruolo ci impegni a provare a dire due cose in più su questo tema. Ovviamente quello che è avvenuto a Nio Savona è un evento eccezionale giustamente l'amministrazione è intervenuta reperendo i fondi per intervenire e sanare la situazione. Sul tema si è esaurito ovviamente qui abbastanza in fretta e ci vede ovviamente a favore di un intervento che va a sanare un problema di questo tipo su uno stabile. Farei un passo indietro cioè cercherei di fare lo sforzo di provare a guardare questa tematica cioè quella della manutenzione degli stabili scolastici degli asili nido e in generale anche quella del mal tempo con un pochino più di prospettiva cioè di utilizzare questa delibera per parlare un attimo del tema. Questo perché fondamentalmente partendo da due cose di cui secondo me dobbiamo essere coscienti. La prima è che gli eventi atmosferici gravi, quelli estremi per così dire, si sono intensificati. Ne abbiamo già avuto modo di parlarne diverse volte in quest'aula anche prima durante la discussione sul parco abbiamo citato questa tematica e saranno sempre di più una realtà con cui andare a confrontarsi. Una realtà che purtroppo provoca danni alle cose, agli edifici e ovviamente anche agli edifici pubblici e agli edifici scolastici. Siccome non solo a Sesto San Giovanni ci tengo a precisarlo ma in generale in tutta la Lombardia e in tutta la pianura della Padana che è stata colpita da 20 atmosferici molto gravi a luglio, ad agosto e a settembre a cui si fa riferimento in questa delibera, sono stati molteplici i danni che ci sono stati agli edifici e agli edifici e agli edifici scolastici, riteniamo opportuno incrementare il fondo che in questo momento risulta esaurito ma che permetterebbe di agire senza dover fare delle variazioni d'urgenza, a attingere delle risorse per dare delle risposte immediate, anche perché, e lo dico senza una vena provocatoria ma costatando quella che è di fatti una realtà, le risposte dai livelli superiori a quello comunale, soprattutto quello regionale, si sono rivelate, è un dato di fatto, non credo si possa ritenere un'opinione, insufficienti per rispondere al bisogno dei comuni, dei comuni di destra, di sinistra, civici che hanno fatto richiesta di fondi appunto per rispondere ai danni del maltempo nelle scuole e negli stabili scolastici in generale e questo ha messo sotto pressione un sacco di comuni e quindi forse guardando al 2024, guardando a un bilancio che andremo a discutere nei prossimi mesi, forse è opportuno prendendo via da questa delibera di guardare la realtà, di guardare anche con un po' di preoccupazione in più l'estate, il periodo estivo e questo è quello che può comportare e agire con la massima cautela e la massima prudenza possibile. Oltre a questo voglio far presente all'aula e ai cittadini presenti e connessi a distanza una realtà molto più piccola ma altrettanto secondo me significativa, ovvero che è dal 22 settembre che giace tra i consiglieri di opposizione e le presidenze di commissione la richiesta di portare nuovamente in una commissione congiunta la seconda e la terza questo tema, cioè quello delle scuole, dei cantieri, degli eventuali danni, senza entrare nel merito perché è evidente che questa sera non sia il momento adatto a parlarne ma lo sarebbe una commissione che noi abbiamo richiesto 34 giorni fa e che ad oggi non si vede, mi sento di dire, anche un po' in barba al regolamento, che non è solo il Nido Savona ad aver subito dei danni per il maltempo, mi sono stati segnalati personalmente danni in altre strutture e secondo me è opportuno che i consiglieri comunali, i commissari e i cittadini interessati portino avanti questo percorso di conoscenza dello stato degli stabili perché credo sia davvero di interesse cittadino, un po' come abbiamo già fatto, quindi non è che sto chiedendo una cosa che non sia mai avvenuta, abbiamo fatto l'anno scorso più o meno in questo periodo, poi abbiamo fatto nuovamente a luglio e secondo il mio gruppo, il gruppo del Partito Democratico, è buona pratica continuare a farlo periodicamente, un po' per provare a dare delle risposte sui tanti cantieri che ci sono e a tenere aggiornati i consiglieri ma anche i cittadini interessati. Ho cercato, spero si sia capito che non c'era una volontà polemica in queste mie parole ma c'è quella di un suggerimento cioè di guardare cosa è successo quest'anno e presumere che purtroppo nei prossimi anni non andrà meglio e quindi gli eventi climatici, atmosferici estremi saranno sempre più frequenti e addirittura probabilmente più violenti e quindi forse agire in anticipo con prudenza è la cosa migliore. L'altra è quello, l'invito che credo possa accomunare tutti i consiglieri dell'Aula di portare questi temi al di là della contingenza della delibera in commissione per poter tenere aggiornata tutta la città, la richiesta fatta dal mio gruppo e firmata da tutte le opposizioni in realtà poi è una cosa secondo me molto pacifica cioè di vedersi praticamente due volte all'anno per parlare del tema, mi sembra una richiesta assolutamente gestibile. Niente, vado a concludere, poi il mio capogruppo parlerà in dichiarazione di voto però è evidente come su uno stabile quello di Nio Savona dove poi sapremo che sarà nei prossimi mesi presumiamo in primavera, almeno da queste sono le ultime informazioni che mi sono arrivate sarà abbattuto per poi essere ricostruito, ben venga però che oggi si sia agito per ripristinare una situazione che sfugge ovviamente dalla volontà di tutti però che richiedeva l'attenzione dell'amministrazione. Grazie. Grazie a lei Al momento non vedo altri interventi in aula Consigliere Pogliaghi, ha lei la parola Grazie, grazie a tutti, grazie Presidente Allora brevemente una piccola reazione su quanto detto fino adesso colgo alcuni spunti del Consigliere Gatti che mi ha preceduto sicuramente in qualche maniera interessanti ma vanno un attimo razionalizzati perché il percorso è un po' mischione Allora un conto è parlare diciamo di situazioni di emergenza, di grave emergenza di emergenza climatica come quelle che sono avvenute e che verranno condivido sempre di più purtroppo diciamo che non sono cose governabili Queste situazioni evidentemente in quanto imprevedibili non sono correlabili sulla gestione o meglio sulla manutenzione degli immobili ovvero sia se arriva una tromba d'aria uno può avere rifatto la casa ieri ma la casa va via non c'è storia quando c'è una certa violenza io anche per attività diciamo professionale seguo immobili e gli immobili che sono andati peggio su Milano o su tutta l'Italia sono stati gli immobili più nuovi i più manutenuti, i più recenti, progettazione d'avanguardia e quant'altro perché evidentemente non è tanto quello che fa la situazione di prevedibilità cioè non è possibile prevedere se un tetto in lamiera magari isolato regge meglio di un tetto del 1920 con le tegole che magari non è mai stato manutenuto anzi normalmente regge meglio quello del 1920 che non è mai stato manutenuto detto ciò invece colgo più con favore sicuramente però non è mischiabile con gli interventi di sommorgenza la questione di fare il punto è stato fatto, è detto da lei un anno fa viene fatto quando ci sono aggiornamenti mi risulta che nelle commissioni comunque si siano dati aggiornamenti di volta in volta in particolare sugli interventi degli immobili pubblici sulle ristrutturazioni degli edifici scolastici con un piano d'avanzamento sicuramente riassunto però è sempre possibile chiedere come dire maggior dettaglio qualora uno volesse studiarsi gli avanzamenti, i lavori o quant'altro poi altro tema ancora diverso invece è la situazione di bonifica perché purtroppo come tutti sappiamo i mobili pubblici del Comune di San Giovanni sono rimasti fermi per 70 anni per 50 anni, per 40 anni a seconda dell'età che hanno e evidentemente richiedevano tanto e cara grazia che ci sta mettendo le mani su tutti i prioritari grazie grazie a lei qualcun altro vuole intervenire consigliere Maderloni ha la parola grazie colgo i suggerimenti del consigliere Pogliaghi per fare due precisazioni che penso siano doverose la prima è che l'evento atmosferico imprevisto è stato, si è verificato a settembre e leggendo la documentazione che c'è stata data da studiare a corredo della delibera c'è scritto che qui il fondo previsto per gli interventi per quel tipo di scuole quindi la missione 12 se non erro, vado un attimo a memoria, chiedo scusa nel caso era esaurita la nostra osservazione è che non era esaurita a dicembre era esaurita a settembre quindi presumiamo che e quindi l'invito che noi facciamo è un suggerimento in una logica costruttiva in una logica in cui ci chiedete sempre di poter portare suggerimenti proposti noi vi suggeriamo vista l'esperienza di quest'anno e probabilmente io parlo di quest'anno nel senso che l'ultimo la consigliatura è iniziata da poco più di un anno e mezzo e quindi mi baso sui documenti che sono stati portati in questa consigliatura suggeriamo che magari visto che non sono io Iuri Madderloni o consigliere Ernesto Gatti a dire che gli eventi estremi aumentano basta semplicemente accendere un telegiornale in questi giorni in friuli giusto per stare a quello che ho visto ieri sera era una situazione un po' complicata allora se dobbiamo agire in una logica del buon padre di famiglia come dovrebbe essere un amministratore il buon padre di famiglia cerca di portare del fieno in cascina per i tempi magri semplicemente il nostro è un suggerimento a migliorare questa cosa poi abbiamo riconosciuto la tempestività dell'intervento che ha effettuato l'amministrazione con l'architetto di Giorgio e questo fa solo piacere che la macchina amministrativa ma di questo non avevamo dubbio è reattiva e funziona il tema è su cui noi vogliamo porre l'accento è la gestione politica perché alla fine siamo qui per parlare di questi aspetti al di là del fatto che una delibera tecnica è una delibera tecnica fino a un certo punto ma se passa qui in aula a casa mia ci chiediamo il voto politico e non tecnico e quindi ha anche una componente politica finisco solo per dire che non è che prima del 27 giugno 2017 se non erro il giorno della sua elezione signor sindaco della prima elezione a sesto non si faceva niente sono stati 70 anni e sicuramente anche prima durante la guerra durante il periodo fascista durante il regno d'Italia eccetera c'era chi provvedeva a fare manutenzione degli edifici il tema è che gli impegni sono stati fatti ora se poi non vogliamo riconoscere ciò che hanno fatto le amministrazioni precedenti va bene però io faccio una mozione d'ordine possiamo non parlarne più lo dico lo dico perché tanto non serve a nulla cioè quello che è stato è stato quello che succederà fra cinque anni sarà merito o demerito dell'amministrazione ma non è che cambia la sostanza per cui andiamo avanti ok quindi penso che sia utile provare a dialogare in una logica costruttiva guardando al futuro per evitare che si possa trovare in una situazione più semplice e più veloce nel gestire alcuni passaggi grazie grazie a lei passo la parola alla consigliera Pini grazie presidente volevo rassicurare la minoranza in quanto il capitolo a cui fate riferimento è già stato assolutamente rifinanziato quindi è normale che in una gestione oculata questo avvenga quindi domani mattina io non voglia che riaccade nuovamente quello che è accaduto negli ultimi mesi saremmo comunque pronti l'amministrazione sarebbe comunque pronta a rispondere e a reagire quello a cui probabilmente si è fatto riferimento per quanto riguarda la manutenzione degli stabili io penso che prenderci in giro in quest'aula soprattutto non sia costruttivo cioè quello che abbiamo cercato di spiegare ma senza cercare per forza necessariamente la polemica ma è che lo stato che abbiamo trovato degli immobili che abbiamo trovato sul territorio quando siamo arrivati era veramente uno stato pietoso e con la situazione economica che abbiamo anche ritrovato abbiamo fatto enormemente fatica io sono molto felice che invece sia stato piano piano siamo riusciti a creare una sorta di ordine dei lavori e quindi dare un registro e cominciare a fare delle attività che potessero ripristinare gli spazi per i nostri ragazzi nelle scuole e in tutti gli stabili comunali in linea generale ancora tantissimo c'è da fare ma proprio tanto perché abbiamo ancora diciamo degli impianti che sono vetusti lo stiamo vedendo lo abbiamo visto anche in quest'aula nel corso degli ultimi anni abbiamo dovuto rifare l'impianto di di areazione abbiamo dovuto rifare l'impianto di comunicazione perché assolutamente non funzionava nulla ragazzi non possiamo far finta di non di non saperlo cioè non possiamo saperlo solo noi perché siamo seduti da questa parte e voi che stavate seduti dall'altra fino all'altro ieri non lo sapete quindi è questo e non voglio far polemica e credetemi non è una polemica però è il riconoscimento di un lavoro che viene fatto vorrei che venisse riconosciuto una volta ogni tanto non attaccarci a un capitolo che è palese che venga assolutamente rimpinguato sistematicamente con il fondo di riserva che è fatto apposta per non ritrovarci nella situazione che oddio che cosa facciamo adesso perché è finito il capitolo tutto qua grazie buona continuazione grazie a lei altri interventi in aula non vedo prenotazioni chiudo la discussione passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani grazie presidente allora il nostro per una serie di motivi anche in parte legati alle cose che sono state dette è un voto di astensione anche perché se la vogliamo prendere come una delibera tecnica come dicevo prima esiste una maggioranza e chiaramente voglio dire c'è una responsabilità nella gestione delle finanze che è giusto che sia così questo indipendentemente da tutto mi fa un po' specie che venga detto o che si manifesti la necessità di un riconoscimento perché io francamente lo considero un elemento di debolezza dal mio punto di vista non c'è niente da riconoscere in bene o male c'è un'amministrazione che governa c'è un'opposizione è che fa la sua parte o cerca di farla e sicuramente pensa di farlo al meglio rispetto a quello che ha in testa di governare come opposizione insomma quello che ha in testa che significhi fare opposizione per cui l'avevamo detto più volte e lo prendo ancora come una sollecitazione sì magari parliamo del presente e guardiamo al futuro tutti sappiamo che nel presente ci sta un pezzo di passato che il passato ha un significato evidentemente vale per noi vale per la politica vale per le persone vale per la storia anche però insomma adesso governate da più di sei anni prendetevela questa legittimità e non state a chiederla a nessuno grazie Alleanza Verdi Sinistra consigliere Foggetta commosso dalla fede religiosa con cui si è votata la delibera precedente da parte della maggioranza io sono sono spinto da loro a seguirla anch'io credo in modo religioso a quanto dice questa giunta e in particolare questo sindaco per questa ragione sono andato su facebook e ho cercato la dichiarazione di un sorridente Roberto Di Stefano che dice d'estate c'è molto caldo e d'inverno c'è tanto freddo dovrebbe essere una cosa ovvia ma a quanto pare per la sinistra e per gli egocretini ecogretini scusatemi non è così basta terrorizzare le persone con la fine del mondo quindi visto che era il 18 di settembre ed eravamo ancora in estate è chiaro che stiamo un po' esagerando le cose d'estate fa caldo non è possibile che questa cosa sia successa quindi mi verrebbe davvero da buttarmi su quell'impeto religioso su cui siete sempre attestati voi e votare contro quindi perché il sindaco mi ha detto che non è possibile questa cosa invece no voteremo a favore per una questione di responsabilità per i cittadini e per le cittadine e permettetemi un consiglio sindaco parli delle cose che conosce sono sicuro che ne troverà Dega Salvini Premier consigliere Appini grazie presidente il nostro voto sarà favorevole perché io non ho prenotato nessun'altra in nessun intervento ah perfetto allora mi sono persa io grazie Forza Italia consigliere Cupido grazie presidente voto favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni grazie come anticipato nell'intervento il nostro voto su questo su questa delibera proprio a testimonianza della dell'apprezzamento della celerità con cui si è intervenuti nella celerità anche con cui si è voluto poi trovare una soluzione anche economica che a volte frena frena gli interventi votiamo a favore grazie gruppo misto consigliere Vincelli grazie presidente allora per quanto riguarda questa delibera ho visto la prontezza da parte dell'assessore degli uffici tecnici che hanno stilato questa delibera e li ringrazio altrettanto però chiedo all'assessore e gli uffici tecnici e contabili di sollecitare riscontro presso chiaramente la compagnia di assicurazioni per eventuali chiaramente danni risarciatori detto questo io qui stasera ho ascoltato diversi suggerimenti da parte della minoranza e io vi apprezzo sicuramente per questo da parte mia i suggerimenti vengono accettati ci faccio una riflessione poi dopo di che vedo se farli chiaramente miei allora adesso stasera vi do io un suggerimento che potrebbe essere di aiuto e il consiglio comunale ha una commissione che si chiama organo di controllo e mi dispiace che a causa delle minoranze dopo un anno si è costituita ecco proprio in quella commissione secondo me voi potreste effettivamente chiedere visto che ci sono anche presenti anche i potenziali cittadini chiedere agli assessori argomentazioni che continuate a richiedere all'interno delle commissioni che richiedete all'interno delle commissioni e che magari poi giustamente perché non sempre ci sono i tempi adatti per poter fare le commissioni quindi l'orgone di controllo è sicuramente il mezzo giusto il mezzo importante per andare a chiedere ai vari assessori le varie tematiche noi moderati siamo favorevoli abbiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà religiosamente favorevole grazie amen fratelli d'italia consigliere turolla grazie presidente il nostro voto sarà favorevole di Stefano sindaco consigliere Pogliaghi grazie presidente voto favorevole grazie a tutti ci prepariamo alla votazione apro la votazione abbiamo 22 voti validi 21 voti favorevoli un voto astenuto la delibera viene approvata procediamo per l'immediata eseguibilità apro la votazione abbiamo 22 voti validi di cui 21 favorevoli e un astenuto dichiaro la delibera esecutiva possiamo passare al punto numero 3 all'ordine del giorno approvazione della seconda variazione al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023 2025 passo la parola all'assessore paterna per la presentazione della delibera grazie presidente buonasera a tutto il consiglio e a tutti quanti i cittadini parto dalle premesse il PAV ovvero il piano di alienazione e valorizzazioni è un documento che parte integrante del DUP la prima variazione è stata fatta con deliberazione del consiglio al 24 di luglio 2023 quest'anno portiamo delle modifiche sia alle alienazioni che nelle valorizzazioni nel piano delle alienazioni viene inserita la costituzione di servitù inammovibile di elettrodotto o in alternativa e a seconda dei casi del diritto di superficie a favore dell'ente gestore del servizio di fornitura elettrica per l'installazione delle nuove cabine di trasformazione da media e bassa tensione nel territorio comunale nel piano delle valorizzazioni invece abbiamo l'inserimento delle aree previste in cessione nello schema della convenzione urbanistica attuativa del progetto di riqualificazione della ex cava Parpaiona che è costituita da diversi mappali di terreni e fabbricati provo ad avvicinarmi così ok e ancora nel piano delle valorizzazioni rientra l'immobile di Viera e Giardini 32 precedentemente inserito in alienazione per la quale appunto è stata necessaria questa modifica per reperire spazi per attività a servizio dell'ente nello specifico rientrerà il progetto di spazi dell'abitare nell'ambito del bando di coprogettazione di Fondazione Comunitaria Nord Milano e Fondazione Cariplo in ultimo ancora nel piano delle valorizzazioni abbiamo il posticipo al 2024 dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione degli immobili di via Cantore 145 via Boccaccio 385 in attesa del nuovo regolamento che a breve porteremo regolamento per la gestione dei beni comunali questi due immobili erano immobili previsti quindi a bando nel 2023 li spostiamo al 2024 ancora il posticipo al 2024 della procedura ad evidenza pubblica per l'immobile di via Rovani 247 che è una casa di un ex custode che necessita in realtà di alcune opere di manutenzione e di suddivisione interna per poi assegnarla a dalle associazioni grazie grazie a lei assessore apro la discussione potete prenotarvi passo la parola al consigliere Cagliani grazie signor presidente prima di entrare nel merito della delibera mi sia consentita una parola circa la modalità con cui abbiamo aperto la serata la seduta è iniziato osservando un minuto di silenzio più che doveroso per ricordare quanto sta succedendo in Medio Oriente tra Israele e Palestina diciamo sto parlando solo della modalità diciamo che con questo semplice gesto abbiamo fatto il minimo sindacale io infatti sono convinto che abbiamo perso un'occasione per riflettere tra di noi quanto sia vera l'affermazione contenuta nell'articolo 11 della nostra Costituzione che la guerra non è o meglio non è più lo strumento capace di risolvere i conflitti anzi li alimenta vedasi il conflitto la storia del conflitto russia-ucraina e adesso questa del Medio Oriente quando con un atto di autocensura neghiamo alla parola la capacità di esprimersi per paura che il confronto degeneri in uno scontro ci stiamo autoriducendo gli spazi di democrazia facciamo un danno a noi stessi alla nostra intelligenza all'istituzione che rappresentiamo e neghiamo il diritto al dialogo rinunciando al nostro ruolo di rappresentanti di quei popoli che a maggioranza chiedono a gran voce che cessino le armi e che la pace diventi veramente l'unico obiettivo anche dei governanti non solo dei popoli chiudo la parentesi parlavo solo della modalità con cui abbiamo ricordato questa brutta pagina della nostra storia veniamo all'argomento della delibera sottoposta alla nostra discussione una delibera con la quale l'amministrazione comunale ci ripropone un piano di allenazione con le modifiche che ha illustrato l'assessora che prevede la vendita tra le altre cose e parlo naturalmente dell'alienazione di un numero importante di alloggi SAP se non ho contato male sono una ventina da alienare nell'anno 2024 di proprietà del comune collocati in modo diffuso sul territorio cittadino perché si parla di via Livorno via Sardegna e non ricordo più le altre comunque non tutte alle torri insomma con la previsione di incassare una cifra stimata facendo una somma mal contata di circa 2 milioni di euro tra tutti gli stabili edifici e con l'impegno almeno così recita la delibera regionale del 10 del 9 di ottobre che accompagna l'autorizzazione per l'accessione degli stabili di via Livorno di utilizzare tal importo per la manutenzione del restante patrimonio adibito a SAP che consta di attualmente di 946 alloggi una scelta del genere non è una novità assessora mi creda era un'ipotesi che avevamo che era stata presa in considerazione anche da una precedente giunta di centro-sinistra ma c'era allora una motivazione ben precisa eravamo negli anni 2011 e successivi ed eravamo in piena crisi finanziaria e economica una crisi iniziata nel 2008 in America con i famosi mutui subprime che era addirittura paragonata alla famosa crisi del 29 una crisi che ha coinvolto molte nazioni Italia compresa così che a cascata molti nostri comuni si sono trovati in grande difficoltà e per assurdo proprio i comuni più virtuosi quelli che avevano messo in campo importanti eventi di politica sociale a sostegno delle famiglie bisognose e sesto era tra questi per questo si era deciso di mettere in vendita alcune unità immobiliari e mi pare proprio quelle di via Livorno che vado a memoria tra le ultime che ricordavo io ma voi invece questa era la nostra motivazione voi invece che vantate in continuazione i conti in ordine voi che avete chiuso il bilancio con un avanzo tant'è vero che già nel 2000 gennaio gli assessori prendendosi l'intera cifra consentita anziché dilazionarla nei tre anni successivi che era l'altra opzione prevista dal governo voi che grazie al PNRR finanziate una serie di interventi sull'edilizia pubblica e non solo per importi mai visti in anni passati dal governo centrale voi dico ma perché insistete in questa operazione di vendita delle case pubbliche tra l'altro scrivete in delibera che e cito le entrate previste con alienazioni del patrimonio dell'ente sono comunque superiori al fabbisogno espresso nel bilancio di previsione 2023-2025 e quindi a che pro visto anche tra l'altro la necessità di trovare alloggi per le famiglie in difficoltà in special modo con quelle con minori a carico che subiscono lo sfratto spesso per morosità incolpevole pure riconosciuta dall'amministrazione comunale ma senza con questo prevedere un intervento che eviti lo sfratto o che faccia il passaggio da casa a casa toglietele da questo elenco mettetele in assegnazione per i richiedenti in casa sono liberi tra l'altro almeno quelli di via Livorno e se poi la vendita non andasse a buon fine cosa succede con le manutenzioni non potremmo utilizzare questi soldi per intervenire sui 946 edifici che noi abbiamo consegnato le nuove giunte ammalorate e malgestite nei nostri anni e questa è una prima domanda una seconda domanda scusa stiamo un po' uscendo da quello che è l'ordine o l'oggetto della delita insisto parlando delle alienazioni stiamo un po' uscendo dall'argomento non è una variazione ma è un piano di alienazioni che ci viene presentato modificato io parlo di questo è tra l'altro un documento legato al DUP e poi ancora come si concilia la messa in vendita di alloggi che sono diffusi nel territorio e non concentrati in un'unica zona con quanto avete scritto nel DUP 4.1 sostegno alle politiche abitative pagina 71 dove si parla di avvio di almeno un bando all'anno di servizi abitativi pubblici e continua così il DUP questo ultimo bando deve avere come obiettivo lo scorrimento della graduatoria dare la disponibilità al demanio di mettere in disponibilità oltre la dotazione iniziale e permettere un abitare diffuso evitando la concentrazione delle fragilità estreme dalle due l'una se vendete gli alloggi diffusi sul territorio come fate ad evitare la concentrazione delle fragilità estreme anche noi c'eravamo posti il problema di distribuire sul territorio le famiglie fragili richiedenti di casa per evitare che si formassero dei ghetti e la pratica del subaffitto rispondeva perfettamente a questo obiettivo voi avete ritenuto questa pratica questa operazione altamente negativa solo perché non avete più effettuato i controlli necessari e indispensabili per il buon uso del bene affidato e così avete deciso non mi costringa ad intervenire deciso di buttare via il bambino con l'acqua sporca allora assessore paterna verifichi con l'assessore a pizzocchera perché questo contraddice quanto è scritto nel dubbio non si governa in questo modo una comunità non si può scrivere una cosa cercando di catturare il consenso del cittadino e poi fare il contrario di quanto scritto questa si chiama ipocrisia in altre parole è prendere in giro le persone tra l'altro le persone più fragili grazie signorio consiglieri vi chiedo di rimanere sull'ordine sul tema della delibera cortesemente in questo caso siamo usciti completamente fuori il tema altri interventi in aula prego signorio Pagani io qua la vedo online prego provi a riprenotare provi provi a rischiacciare riproviamo scusate stiamo provando a risolvere un problema tecnico grazie a tutti Grazie. 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 Abbiamo ripristinato il sistema, vi chiedo di riprendere posizione e passiamo la parola alla consigliera Pagani, naturalmente recuperiamo il minuto che sta trascorrendo. Sì, grazie. Prego, consigliera Pagani. Grazie, Presidente. Allora, io cerco di riprendere il tema in relazione appunto alla variazione a cui fa riferimento, alle variazioni che fanno riferimento all'interno di questa delibera. Facendo anche riferimento a una discussione, seppur non molto lunga, insomma, che c'è stata all'interno della commissione, quando facendo riferimento ad uno degli immobili che vengono sostanzialmente tolti dal piano delle alienazioni, quindi si rinuncia a vendere, che è l'immobile di Via Giardini 32. Quando appunto chiesi in commissione all'assessore di riferimento che oggi ha specificato qual era la destinazione d'uso, quali sarà, scusate, la destinazione d'uso relativa alla sede di Via Giardini, ma che durante la commissione non fu così. E quindi le feci questa domanda dicendo, ma come abbiamo spostato un'associazione che era dentro la sede di Via Giardini, una delle tante associazioni di Via Giardini, però quella del 32, per tentare di vendere l'immobile, per poi accorgerci che l'immobile non è vendibile e quindi adesso lo mettiamo di nuovo a disposizione della città. In realtà, appunto, come poi mi è stato spiegato, sì, a disposizione della città, l'immobile rientra, come dire, per usare un termine che si usa adesso, rientra in house, cioè sarà utilizzato dall'amministrazione comunale come punto di appoggio rispetto a dei servizi legati dagli spazi dell'abitare. Allora, da questo punto di vista mi sembra che, o meglio, pensiamo come città in comune che la vicenda di Via Giardini 32 sia anche un simbolo, in positivo però, di quello che si potrebbe fare ancora oggi, rispetto a degli immobili che sono ancora nel piano delle allenazioni, che sono immobili di Via Giardini, Via Giardini 8, Via Giardini 50, e che sono sedi di associazioni che vivono e convivono all'interno della città e con la comunità, ma che convivono tanto anche con l'amministrazione comunale. Basti pensare che Via Giardini 8 è la sede tra le varie associazioni anche dell'Hauser. Sarebbe molto interessante pensare che, visto che questi spazi non sono vendibili, e mi sembra che la valutazione sia stata espressa più volte, anche all'interno della commissione, ma non solo dall'assessore di riferimento, ho sentito fare questo ragionamento anche rispetto al sindaco, allora forse Via Giardini 32 può diventare un esempio virtuoso anche rispetto a tutti questi spazi, che ancora sono abbastanza embilico. Sono abbastanza embilico perché sono spazi che chiaramente sono stati impoveriti da questo percorso, naturalmente. In parte perché sono non tutti oggi ancora utilizzati, ma diverse associazioni sono state in qualche modo obbligate ad andarsene, e quindi abbiamo perso anche pezzi importanti e secondo me ci siamo impoveriti proprio perché questi luoghi si sono svuotati. E in parte proprio perché se ci rendiamo conto che questi non sono spazi dai quali possiamo ricavare delle vendite anche significative, poi sarebbe interessante, forse non è sicuramente questo il momento, però sarebbe interessante andare anche a capire qual è stato il percorso che ha portato alla destinazione di questi spazi come spazi assolutamente da vendere e da liberare rispetto alla città, perché a netto di tutto non credo che gli incassi di quelle sedi comportavano lo stravolgimento o l'insaldamento impositivo del bilancio comunale. E quindi anche capire quali sono stati i criteri che sono stati adottati, perché comunque fanno parte del percorso di questa amministrazione comunale, che oggi rispetto ad uno spazio riconosce non solo di tornare indietro, ma riconosce anche che quello spazio può essere utile e quindi può essere riutilizzato. E questo è molto interessante, perché ci sono diversi spazi che possono essere riutilizzati in maniera interessante e in maniera intelligente e anche con una volontà di ampliamento dei servizi. E quindi da questo punto di vista ci auguriamo che Via Giardini 32 diventi Via Giardini 8, diventi Via Giardini 50 e che tutti gli spazi vivano. Nella nostra città in questo momento c'è uno spazio, per esempio, di cui io personalmente, ci siamo fatti delle domande come gruppo, come lista civica di città in comune, e quindi porto io qui la domanda rispetto al mio gruppo, lo spazio, quello che dove fino a poco tempo fa ci stava il centro sociale Baldina, è uno spazio molto grande, però in questo momento è completamente abbandonato. Allora, sarebbe interessante anche lì capire se c'è un progetto, se quello spazio sarà eventualmente destinato a più associazioni, perché comunque lo possiamo ristrutturare, risistemare con tutti i limiti. Allora, mi piacerebbe che questo ragionamento inerente alle variazioni delle allineazioni ci vedesse interessati da tutte le parti per costruire dei presidi o mantenere dei presidi cittadini che sono importantissimi e che ancora di più lo sono in questo momento, in cui è evidente che la nostra città, e non solo, e non solo, bisogna essere onesti, però la nostra città anche, sta vivendo un momento molto difficile. E io credo che noi dovremmo veramente baciarci i gomiti ad avere cittadini, associazioni, realtà informali che hanno voglia di impegnarsi e di costruire reti e presidi che salvaguardano comunque la città. Ci sono degli spazi oggi che sono completamente abbandonati e questo non va bene, non va bene e soprattutto, siccome sono frutto di scelte, non si capisce la razio di queste scelte, perché poi li guardi di fuori, dal di fuori, vedi edifici abbandonati, coperti da foglie, coperti da pattumiera, immondizia abbandonata e dici ma scusate, ma perché? Perché siamo arrivati fino qui? Ecco, quindi noi non esprimeremo un voto contrario rispetto a questa delibera, certo non voteremo comunque a favore, però io penso che Giardini 32 possa essere l'inizio di un esempio virtuoso, se ci riflettiamo onestamente e congiuntamente con le risorse della città. Grazie. Grazie a lei. Al momento non vedo altre prenotazioni. Procedo a questo punto con la chiusura della discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Città in Comune, Consigliera Pagani. Grazie Presidente, come ha annunciato il nostro voto di astensione. Alleanza Verdi e Sinistra, Consigliere Foggetti. Il nostro invece sarà un voto contrario, perché rifacendomi anche a tanto di quello che diceva poco fa il Consigliere Cagliani, a noi sembra questo, al contrario di quanto si diceva prima, una giunta pragmatica, su quello di cui discutevamo prima, il pragmatismo si è visto, su questo assolutamente no, anzi, noi vediamo una grossa cecità di questa giunta che di fronte all'emergenza abitativa che continuamente, costantemente affrontiamo e che tutti e tutte conosciamo, decide invece che aumentare gli spazi per dare risposta, decide di toglierle. C'è città perché, lo diceva poco fa e mi accodo a quanto diceva poco fa la Consigliera Pagani, di fronte alla necessità che ci sta urlando la città di presidi sul territorio per far vivere la città, come dicevamo settimana scorsa, in quella commissione abbastanza particolare che abbiamo portato avanti sul tema sicurezza, invece di pensare di aumentare i punti di presidio del territorio facendola vivere in ottica culturale, in ottica associativa, in ottica di ampliamento delle attività della città, della partecipazione dei cittadini e della cittadina, ne togliamo, togliamo alcuni di questi spazi, alcuni di presidi. Io in questo senso non posso e non vedo quel pragmatismo che era stato sottolineato durante la prima delibera che abbiamo votato questa sera, per questo il nostro voto sarà contrario. Rega Salvini, Premier, Consigliera Pini. Grazie Presidente. Esistono delle regole per l'assegnazione degli spazi, questo non significa che non ci sia la volontà di assegnarli, però ci sono delle regole che prima evidentemente non c'erano, sappiamo benissimo che abbiamo trovato tutti gli spazi, stragrande maggioranza degli spazi, senza un contratto vero e proprio. È stata citata la Baldina, mi verrebbe da dire qualcosa sulla Baldina, su quanto è costato, su quanto venivano, vabbè, lasciamo stare. Lascio veramente perdere perché non voglio inescare una polemica. Gran bel lavoro, per carità di Dio, di aggregazione, sono d'accordo con voi, però ripeto, noi siamo qua chiamati tutti, anche voi, a gestire al meglio la cosa pubblica e quindi non si può pensare di fare della cosa pubblica una cosa privata. Tutto qua, quindi il nostro voto di Lega Salvini Premier sarà favorevole. Grazie. Forza Italia, Consigliere Cupido. Grazie Presidente, voto favorevole. Partito Democratico, Consigliere Maderloni. Grazie. Colgo il suggerimento della Consigliera Pini per ribadire che, proprio perché crediamo che, come ha detto il Consigliere Caliani nell'intervento, per rispondere a un bisogno l'amministrazione deve avere degli strumenti e continuare con la logica delle allineazioni, soprattutto su un tema come quello della Casa, che sappiamo essere in questo momento un tema molto critico, non è la risposta giusta. Quindi, come Partito Democratico, voteremo contrari a questa delibera. Gruppo Misto, Consigliere Vincelli. Grazie Presidente, qui stasera andiamo a votare questa delibera sulle allineazioni e valorizzazioni. Ritengo che è un primo passaggio nel secondo mandato di amministrazione su cui noi andiamo a valutare da qui ai prossimi sei mesi un anno quello che potremmo chiaramente fare sul territorio. Diciamo che qui stasera ho sentito che perché non li mettiamo effettivamente alcune immobili del Comune, non li mettiamo a disposizione. Sono a disposizione ma purtroppo non vedo la fila chiaramente delle richieste. Quindi, secondo me, è opportuno iniziare a interessarsi da parte magari delle minoranze chi in realtà vuole avere a disposizione dei locali, che poi andranno in evidenza pubblica, quindi con un bando chiaramente a parte. Perché io non vedo sicuramente le file. Noi moderati siamo a favore. Abbiamo il sesto, Consigliere Molteni. Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Fratelli d'Italia, Consigliere Turolla. Grazie, Presidente. Voto favorevole. Di Stefano, Sindaco. Consigliere Ghezzi. Grazie, Presidente. Buonasera, buonasera ai cittadini. Chiariamo subito. Non c'è niente in vendita. Questa delibera non riguarda alcuna vendita di immobili comunali. Quindi, prima cosa, chiedo anche al Presidente per cortesia di insistere sul rimanere nel tema della delibera. Perché ho sentito una narrazione che sinceramente è completamente fuori tema rispetto a quello che stiamo approvando stasera. Quindi, per cortesia, stiamo sul tema perché il tempo è prezioso per tutti. Poi, questo tema lo affronteremo quando ci saranno le delibere specifiche. Nessuno sta dicendo che si è insensibili al problema della casa, eccetera. Quindi, prima cosa, rimaniamo per cortesia contestuali. Stiamo parlando di un interramento di un elettrodotto. Stiamo parlando di due locali che rimangono in mano al Comune. Quindi, non diamo, anzi, all'opposto di quello che viene detto adesso. Ci sarà una visione, che sarà quella dell'amministrazione. Certo, siamo qua per amministrare, quindi faremo questo che è il nostro compito. Sui bandi, stiamo semplicemente dicendo che sposteremo due bandi di assegnazione. Certo che ci sono degli immobili che sono rovinati. Perché forse, proprio la mancata assegnazione ad una realtà in grado di manutenere, a differenza del Comune, questi immobili è sicuramente apportato allo stato fatiscente in cui vertono tantissime strutture sul territorio sestese. Quindi scendiamo dal pero e non mettiamo davanti i fumi, davanti ai cittadini, che sono molto svegli su questo e capiscono benissimo di che cosa stiamo parlando. L'ultimo è la Cava Melzi. Quindi, signori, di cosa siamo assolutamente su tutt'altro registro. Detto questo, ovviamente il voto della lista di Stefano sarà favorevole. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ghezzi. Prepariamoci per le votazioni. Apro la votazione. Abbiamo 22 voti validi, di cui 16 favorevoli, 5 contrari e un astenuto. La derivata viene approvata. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Abbiamo 22 voti validi, di cui 16 favorevoli, 4 contrari, 2 astenuti. Dichiaro la delibera esecutiva. Passiamo alla delibera di cui al punto 5, avendo fatto quella al punto 4, inizio Consiglio Comunale. Avente ad oggetto approvazione e regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune ai sensi del Decreto Legislativo numero 159 del 6-9-2011. Passo la parola all'assessore Paterna per la presentazione. Secondo solo che... Prego, Assessore. Grazie, Presidente. Dato atto che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ha trasferito negli anni al Comune di Sesso San Giovanni alcuni beni confiscati e nello specifico 8 unità immobiliari ad uso abitativo, 4 box e 4 immobili ad uso diverso, fra cui uno che sarà destinato a sede della protezione civile. È considerato che il riutilizzo di questi immobili attraverso interventi di valorizzazione sono esempio di civiltà e legalità è importante restituirla alla collettività con strumenti adeguati. Pertanto c'è indispensabile adottarci di un regolamento comunale che serve a disciplinare e razionalizzare l'acquisizione, la gestione e la valorizzazione degli stessi. Il fondamento di questo regolamento si basa sul Decreto Legislativo 159 del 2011, ovvero il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Questo regolamento si compone di 21 articoli e di 6 parti, ovvero finalità ed oggetto, funzioni di indirizzo, acquisizione del bene da parte dell'ente, assegnazione del bene, monitoraggio e condizioni generali. In breve faccio un resoconto. I beni immobili confiscati alla criminalità sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, ovvero per soddisfare esigenze di un settore del comune, oppure per incrementare l'offerta di alloggi per particolari condizioni di disagio, oppure sociali per la realizzazione di attività sociali, promotrici di legalità e coesione sociale. Infine, per finalità economiche, solo nel caso in cui ci si trovasse nell'impossibilità di adottare una delle due finalità prima descritte. Viene poi definito l'indirizzo strategico che il comune vuole adottare per i beni confiscati e che sarà l'indirizzo base per le manifestazioni di interesse. Viene definita inoltre la condizione per la quale i beni confiscati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune, a titolo originario, quindi privi di vincoli. E che una volta acquisito l'ufficio del servizio demanio, provvede all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale ed effettua la trascrizione presso registri immobiliari con vincolo di indisponibilità. Nell'iter di assegnazione del bene, quindi nel caso in cui la finalità sia sociale, avviene sempre tramite un bando di concessione a titolo gratuito e possono partecipare tutti gli enti del terzo settore. In questo la valutazione delle proposte viene effettuata da una commissione giudicatrice, la cui nomina avviene alla fine del termine di presentazione delle proposte. Nel caso di attività che richiedono attività di progettualità sul bene è obbligatoria appena di esclusione l'elaborazione dello studio di fattibilità con il piano economico-finanziario. La durata della concessione è infatti determinata in base all'investimento sul progetto di utilizzo del bene e dovrà avere quindi pari durata il progetto stesso. Come oneri da sostenere da parte dell'assegnatario vi sono tutte le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, un versamento di deposito cauzionale che verrà restituito alla riconsegna dell'immobile nella sua integrità. Inoltre i soggetti assegnatari non possono procedere al subaffidamento del bene confiscato o parte di esso né a titolo oneroso e né tanto meno gratuito. Infine, il servizio dei mani o controllerà circa il corretto utilizzo del bene e degli obblighi assunti, provvede a distituire il rapporto annuale che verrà trasmesso all'Agenzia Nazionale e seguono poi appunto in ultimo le condizioni generali in caso di contraddittorio su diversa destinazione del bene e le disposizioni transitorie. Questo presente regolamento non comporta spese o entrate e credo che ci troverà tutti d'accordo senza ipocrisie. Grazie. Grazie Assessore. Apro la discussione. Se qualcuno deve intervenire chiedo di prenotarsi. Consigliere Ricupero, lei ha la parola. Grazie Presidente e buonasera a tutti i presenti e anche a chi è in collegamento da remoto. Oggi mi sento di intervenire per poter relazionare su questo regolamento che ci stiamo apprestando a votare questa sera perché è molto importante per la gestione del patrimonio comunale. Che cosa prevede la normativa nazionale? La normativa nazionale in materia di beni confiscati dalla criminalità organizzata si pone due obiettivi specifici. Da un punto di vista pratico si propone di riutilizzare questi beni che altrimenti non avrebbero nessun utilizzo. Dal punto di vista politico però l'obiettivo è di elevarli a presidi culturali contro le mafie e dar loro una seconda vita. La proposta di regolamento in esame dunque ricalca proprio questi due aspetti prevedendo tre possibili destinazioni d'uso di questi immobili. La prima è per l'uso istituzionale che chiaramente come si evince servirà semplicemente per svolgere attività puramente amministrative o istituzionali. Il secondo possibile utilizzo che è molto più importante è quello per fini sociali. Questo utilizzo mira a reintegrare nella società soggetti che vivono ai suoi margini mira a promuovere relazioni di cooperazione sociali volte soprattutto alla tutela di vittime vulnerabili di reato o comunque più in generale volte a promuovere delle associazioni il cui fine principale sia quello di agire come cerniera come elemento di unione tra una parte della società e chi invece si sente più ai suoi margini. Mentre come ultimo fine vi è la possibilità di utilizzare questi beni a titolo oneroso fine che viene previsto come ultima possibilità sia nella normativa che nella proposta di regolamento. Ogni punto di questo regolamento si basa sui principi di trasparenza di parità di trattamento e di pubblicità come previsto da normativa tanto che sarà possibile documentarsi su tutte le informazioni relative a questi beni quindi sulla loro destinazione sul loro fine attraverso un albo consultabile sul sito istituzionale del comune e che viene periodicamente aggiornato ogni qual volta sarà necessario. Proprio nel rispetto di questi principi anche la selezione a terzi avverrà tramite bando di gara proprio per rendere tutto il più possibile trasparente. Come accennato questo regolamento così come prevede la normativa in generale fa dei richiami anche dal punto di vista culturale e politico da non sottovalutare. La lotta alla criminalità organizzata non deve essere soltanto un fatto puramente legale. Che cosa significa? Che la presenza della mafia al quale non possono che opporsi dei simboli dei presidi di lotta senza se e senza ma. È meraviglioso che persino gli immobili che sono sottratti della criminalità possano rappresentare un simbolo importante da emblema di illegalità al simbolo di inclusione cultura istituzione e pari trattamenti tra categorie di soggetti provenienti da ambienti storie e vissuti diversi. Non a caso infatti la normativa nazionale quindi anche nel nostro regolamento prevede che su ogni bene sottratto venga apposta un'apposita targa dove oltre il logo del comune sarà indicata un'apposita dicitura bene confiscato alla criminalità organizzata. È certamente quindi con la legge e la cultura che possiamo dare un forte messaggio alla mafia recuperando i soggetti più deboli donne e bambini o vittime di reato e aiutandole a rinserire e noi come comune virtuoso ogni bene confiscato è un bene comune a prescindere se forza di maggioranza o di opposizione quelle che tra poco voteremo una delibera di civiltà che sono sicuro vantaggerà la nostra città. Mi auguro quindi che nel momento del voto si svolga in un clima produttivo e costruttivo. Grazie a tutti. Passo la parola alla consigliera Pagani. Grazie presidente. Allora intervengo con lo spirito che ha sollecitato il consigliere Recupero e tra l'altro condividendo molte delle cose che ha detto nel suo intervento. La prima fra tutte è che credo che questo regolamento sia importante che abbia un alto valore simbolico naturalmente come è stato detto oltre che un valore profondamente concreto nel senso che poi i regolamenti servono per mettere in pratica gli obiettivi che vogliamo evidentemente raggiungere e credo anche che sia molto importante farlo come dire far conoscere non tanto il regolamento in sé quanto tutte quelle che sono le procedure e le opportunità perché le procedure vengono dopo le opportunità legate alla legge sui beni confiscati e alla mafia che non è una legge di oggi il regolamento evidentemente è odierno ma la legge che fu fortemente insomma voluta da noti esponenti impegnati nel mondo dell'antimafia proprio perché è importante il ragionamento col quale noi abbiamo come città in comune affrontato questo tema relativo al regolamento dei beni confiscati è stato anche un po' quello di guardarsi un po' intorno anche per capire che cosa succede quali sono gli esempi più virtuosi e anche quelli meno virtuosi e e quindi diciamo che una delle città che sono andata a guardare rispetto al regolamento sui beni confiscati e la mafia è Napoli che secondo me è una città per evidenti motivi una città simbolo da questo punto di vista però prima di ragionare su questo cioè io trovo che ci siano all'interno del regolamento che comunque ripeto è importante che ci sia al netto del fatto che io tendenzialmente sono favorevole a tutti i regolamenti perché il miglior modo di convivere in una comunità è quello di rispettare delle regole che vengono condivise riconosciute e quindi reciprocamente poi condivise gli elementi di fragilità li ho un po' trovati nella pratica nel senso che poi noi oggettivamente abbiamo avuto e abbiamo oggi e questo non è che dipende dall'assessore in sé però è una difficoltà che c'è in tantissimi comuni leggevo e mi sono appuntata a questo dato su 43.000 ovviamente a livello nazionale i beni confiscati contiamo meno di 2.500 invece esperienze sociali attive cioè quindi nate dalla riconversione sui 43.000 beni confiscati e soprattutto un altro elemento di grande difficoltà nel quadro nazionale è che passano molti anni dal sequestro del bene all'assegnazione poi e quindi alla ritrasformazione anche se alla fine questa legge aveva questo come obiettivo cioè non tanto sottolineare anche se è giusto che è così quello che noi sottraiamo alla mafia ma in realtà quello che noi restituiamo alla comunità e quindi io credo che noi dovremmo lavorare di più e questo è a margine del regolamento in sé dovremmo lavorare di più sulla comunicazione la trasparenza è importantissima ma non è sufficiente perché non è sufficiente che l'elenco ed è fondamentale che ci sia e tra l'altro un obbligo di legge che ci sia l'elenco dei beni all'interno del sito va benissimo ma la comunicazione è investimento su una progettualità legata all'ipotesi insomma poi di destinazione di questi beni dovremmo lavorare sulla progettazione sulla costruzione di una rete e secondo me dovremmo lavorare di più come dovrebbero fare in moltissime realtà perché i numeri sono questi su un investimento giovanile perché perché secondo me è prevalentemente in qualche modo rivolto a loro e credo che abbia una potenza molto molto importante anche molto significativa per i giovani da una parte mi viene da dire che questa legislazione a livello nazionale è sicuramente un modello così ci viene riconosciuto anche il di fuori del nostro paese però oltre ad essere un modello in qualche modo proprio per i limiti che ha comportato che comportano tutta una serie di attività di azioni e anche di burocrazia è un limite che sta diventando anche un problema e quindi noi abbiamo delle opportunità che però sono anche degli oneri o che spesso si trasformano in oneri da parte dell'amministrazione comunale che diventa il proprietario di questo bene fino a quando non gli viene richiesto indietro e quindi da questo punto di vista è per questo che secondo noi la determinazione anche fondamentale anche nel cercare di costruire proprio delle reti e delle possibilità che investano sulle idee e che accompagnino le idee perché per esempio vi faccio un esempio una cosa che mi ha molto colpito in questo regolamento all'interno del comune di Napoli lo leggo scusate ma ho in testa il concetto che sostanzialmente loro hanno ridotto la costituzione cioè l'idea che chi potesse essere assegnatario del bene dovesse avere una costituzione formale come entità da almeno due anni e hanno deciso di eliminarlo perché secondo loro era un limite questo per l'accesso soprattutto come dicevo prima ai giovani che sicuramente sono delle grandi risorse soprattutto in questo ambito perché se frequentate come dire il mondo dell'antimafia diciamo così del volontariato legato alle esperienze culturali è pienissimo di giovani molto di più di tantissime altre realtà associative e che sono sicuramente delle risorse ma che hanno poca esperienza come si suol dire tanta volontà ma poca esperienza da mettere in patico e anche pochi soldi sostanzialmente da investire che è uno di quei limiti che incontriamo e che abbiamo incontrato l'assessore ce l'ha raccontato all'interno della commissione rispetto ad una diciamo così una manifestazione gli intenti è andata vuota su un bene confiscato alla mafia e allora perché scelgono di fare questo perché non solo identificano i beni confiscati alla mafia come dei beni da restituire alla comunità ma anche come dei beni che possono essere un volano per lo sviluppo economico e sociale dei territori attraverso proprio l'accesso al lavoro anche delle risorse giovanili che hanno la possibilità di costituire cooperative associazioni start up quello che vogliamo e di essere accompagnati in un progetto l'altra cosa è la questione della durata che anche questo è un elemento di grossa fragilità perché chiaramente avere in assennazione un bene per pochi anni lo sappiamo l'abbiamo detto rispetto ai project finance figuriamoci se non lo dobbiamo dire in questo caso che parliamo di enti del terzo settore che avere pochi anni è un punto debole perché se la durata è breve diventa impossibile produrre ancora prima che misurare un ritorno sociale dell'investimento e per cui per esempio il comune di Napoli ha deciso di fare questo cioè di stabilire comunque all'interno del regolamento delle tempistiche di durata 7 anni entro metri quadrati 150 10 anni 6 metri quadrati sono più di 150 addirittura se parliamo di fondi agricoli 15 anni perché naturalmente non parliamo solo di immobili ma anche di beni mobili ecco io penso che questo questo regolamento abbia in sé con tutte le potenzialità che ha anche questi limiti e penso che però ci possiamo elaborare insomma sicuramente ritornando a quello che ho detto prima comunicazione importante progettazione e soprattutto investimento e accompagnamento nelle risorse non possiamo pensare che cadano dall'alto in qualche modo con autonomia però incominciare a intercettare non solo attraverso la manifestazione di intenti delle potenzialità perché arrivino pronti alla manifestazione di intenti sarebbe secondo me un investimento molto molto utile intelligente e anche che restituisce molto alla città e di conseguenza anche all'amministrazione comunale che non ha più un onere non ha più un onere ma un'opportunità e una risorsa nel territorio grazie Sera Pagani passo la parola a consigliere Marderloni ho schiacciato grazie gli interventi che mi hanno proceduto hanno in qualche modo già ampiamente affrontato il tema io voglio solo concentrarmi su due aspetti parto dal generale per arrivare poi al particolare dotare il comune oggi si doti di un regolamento per l'acquisizione e l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità per noi è come consiglio comunale un impegno che non si può affermare solo un regolamento deve essere però anche conseguente di un'azione di coerenza nell'agire quotidiano e nel diffondere anche una cultura della legalità in città inizio dal generale proprio per questa ragione oggi abbiamo oggi insomma voteremo il regolamento e numeri alla mano sembrerebbe che non ci siano difficoltà a farlo approvare non è sufficiente averlo averlo se vogliamo che in qualche modo la nostra comunità la città di Sesto lo agisca nella quotidianità e quindi sarebbe auspicabile che forte di questo passaggio politico pubblico in qualche modo ci sia un impegno dalla parte dell'amministrazione nel coinvolgere su azioni di legalità le realtà giovanili innanzitutto che come diceva la consigliera Pagani sono quelle spesse volte molto più sensibili su questo tema coinvolgere quindi il territorio per creare una coscienza su questo tema e in qualche modo creare anche un terreno fertile per cui realtà che locali possano cogliere dalle eventuali future assegnazioni e bandi che verranno preparati perché quello che crediamo è che un territorio vivo un territorio dove i beni mobili e gli spazi pubblici siano sempre vissuti siano sempre frequentati in una logica di rispetto e di valorizzazione anche di quello che è la storia di quello spazio vado al particolare e mi soffermo sull'articolo 17 sul monitoraggio come partito democratico abbiamo valutato anche per le posizioni e le scelte che il nostro partito ha sostenuto sempre a favore della legalità di questa sera di votare a favore di aprire un credito di fiducia nei confronti di questa amministrazione su questo tema perché ci vede concordi nel impiegare delle energie in questa direzione quello che però chiediamo è che in qualche modo nella tela di monitoraggio come è indicato all'articolo 17 anche il consiglio o comunque tramite le commissioni ci possa essere un passaggio annuale ci possa essere una condivisione di come stanno andando le gestioni anche perché noi l'anno scorso abbiamo votato no scusate all'inizio di quest'anno abbiamo votato a favore della destinazione di un bene in via Mazzini come sede della protezione civile ci sono qua otto unità mobiliari che possono dare un riscontro un respiro e mi permetto di dire vista anche la fame di spazi pubblici e di luoghi democratici che si possa l'amministrazione visto che è previsto l'amministrazione anche dedicare degli spazi a far sì che i cittadini si possano riunire ritrovare discutere presentare dei progetti dei temi perché gli spazi ad oggi disponibili per una serie di interventi manutentivi necessari non riducono questo tipo di spazio e la democrazia è uno degli ingredienti contro la criminalità per cui chiudo ribadendo il fatto che noi vigileremo daremo il nostro contributo di suggerimenti di attenzione rispetto anche a come verrà attuato questo regolamento perché il regolamento poi viene giudicato nel momento in cui è attuato ed è come in base a come lo attuiamo che un regolamento è efficace oppure no nel raggiungere gli obiettivi che si pone per cui come dicevo chiediamo che in qualche modo ci possa essere da oggi possa partire un confronto sui monitoraggi sui andamenti e che i suggerimenti avanzati anche dalla consigliera Pagani possano entrare in una successiva aggiornamento del regolamento proprio per rendere sempre più forti gli anticorpi alla criminalità in questa città grazie grazie a lei al momento non vedo prenotazioni c'è qualche altro intervento in aula nessun altro intervento chiudo la discussione e passiamo alla dichiarazione di voto città in comune consigliera Pagani grazie presidente allora per le cose che ci siamo detti anche per il modo in cui ce le siamo dette insomma e con la volontà come diceva e ribadiva il consigliere Maderlon insomma che questo è un tema importante come abbiamo detto e che tante cose ci sono da fare e ci sono sicuramente spazi di miglioramento ma comunque per migliorare bisogna sempre partire se no naturalmente non si va avanti e non si creano gli spazi di miglioramento sicuramente anche noi esprimiamo un voto favorevole grazie Alleanza Verdi Sinistra consigliere Foggetto sì è un punto di partenza assolutamente migliorabile lo dicevano gli interventi che hanno che si sono susseguiti prima di me ma è un punto di partenza ebbene anche noi anche il nostro voto sarà un voto favorevole Lega Salvini Premier consigliere Pini grazie Presidente il nostro voto sarà favorevole Forza Italia consigliere Cupido grazie Presidente voto favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni voto favorevole voto favorevole gruppo misto consigliere Vincenzo grazie presidente qui stasera dopo a distanza di 12 anni dalla legge sul i beni confiscati alla criminalità organizzata abbiamo la possibilità di approvare un regolamento che ha sicuramente finalità a beni della collettività e chiedo magari anche alla minoranza qualora ci fossero dei progetti da qui nei prossimi 60 giorni da parte della minoranza dove possono chiaramente trovare come finalità beni alla collettività e non partitica io darò il mio sostegno dopo una valutazione di quello che sarà chiaramente il progetto e a questo punto vediamo se ci saranno i progetti o se è un continuo chiaramente chiedere 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 e alla fine però soluzioni chiaramente non ne vengono portate da parte della minoranza noi moderati sarà favorevole a questo regolamento grazie amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto è favorevole fratelli d'italia consigliere turolla grazie presidente voto favorevole di stefano sindaco consigliere ghezzi grazie presidente beh mi sembra che questo questa delibera abbia effettivamente fatto emergere uno spirito di unità che dovremmo sentire più spesso all'interno di quest'aula secondo me e devo dire che sicuramente è un punto d'inizio questo non è non è certo l'arrivo quindi benvengano le idee e i suggerimenti lo dico in totale trasparenza non ho problemi quando non sono in sintonia mi conoscete ad esprimerlo sicuramente è un percorso che anche a livello nazionale sta andando nella direzione di una responsabilizzazione rispetto al riappropriarsi di queste di queste aree di questi spazi quindi ha ragione anche il consigliere Vincelli io lo dico un po' proprio con con trasparenza totale e qua invito tutte le associazioni del territorio destra sinistra che siano purché sincere nel loro intento a veramente avanzare dei progetti la scommessa che questa amministrazione vuole fare è proprio quella di restituire innanzitutto le associazioni quello che la mafia purtroppo ha deteriorato nel corso degli anni quindi direi avanti così la nostra lista ovviamente è favorevole a questo provvedimento a questo regolamento e grazie anche per l'impegno che è stato profuso dall'assessore degli uffici verso la sua ultimazione grazie abbiamo concorso le dichiarazioni di voto passiamo alla votazione della proposta di delibera apro la votazione manca una votazione a me risulta che manca ancora una votazione ma lo sai di chi mi dà tutto verde no Pagani Pagani manca il suo se intanto vuole esprimere la votazione grazie così almeno procediamo abbiamo 22 voti validi tutti e 22 favorevoli la delibera viene approvata ed è esecutiva chiudo la votazione grazie 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 possiamo tanto che provano a risolvere il problema tecnico e ormai avevo ormai ho estromesso dalla votazione e ho chiuso ok però l'ha dichiarato l'ha dichiarato Procediamo con la proposta di delibera di cui è al punto 6 all'ordine del giorno, regolamento per il servizio e disciplina delle caratteristiche delle autovetture pubbliche da piazza, taxi. Passo la parola all'assessore Aiosa per la presentazione della delibera. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora stasera portiamo in consiglio il nuovo regolamento taxi, è un regolamento che sostituisce il precedente che era un po' vetusto perché era degli inizi dell'anno 89, con ultima modifica di consiglio nel 96 ma mai completamente adeguato alla legge quadro del 1992. Con questo regolamento andiamo ad aggiornare l'impianto complessivo delle regole che riguarderanno poi i tassisti in un'ottica di trasparenza sul loro lavoro, sicurezza delle vetture, tutela degli utenti e corretta eventuale applicazione sanzionatoria. Il regolamento che andremo a votare è stato condiviso in primis con la Polizia Locale e ne abbiamo raccolto le loro osservazioni su tre tematiche principalmente. Le sanzioni, lo stazionamento dei mezzi in attesa e la posizione del sigillo di garanzia del tassametro. Per portare il regolamento in consiglio, in realtà, nonostante non abbiamo ancora istituito la commissione taxi perché dovevamo cambiare il regolamento, non ci sentivamo comunque di portarlo in maniera un po' capestro e quindi abbiamo fatto, sul suggerimento del segretario, un incontro il 25-9-2023 con le associazioni di categoria, gli organi tecnici del Comune e dei rappresentanti dei lavoratori della categoria tassisti di Sesto, a cui abbiamo presentato il documento, ne abbiamo parlato con loro e abbiamo recepito anche le istanze che ci hanno fatto soprattutto sull'utilizzo del mezzo fuori orario di lavoro perché ci hanno segnalato, come spiegavo in commissione, che molti non hanno due macchine, hanno solo l'autovettura con cui svolgono il servizio e quindi era importante per loro che ci fosse una segnalazione chiara del momento in cui utilizzano l'auto per motivi personali e non per trasporto, non tanto sul territorio di Sesto dove comunque sono anche conosciuti dalla nostra polizia locale ma anche quando si spostano su Milano perché le frecce che sono l'organo di controllo della polizia di Milano è abbastanza severa, quindi avevano bisogno che si capisse chiaramente che erano fuori servizio e non che stessero svolgendo un lavoro senza attivazione del tassametro. In questa delibera chiediamo di dare l'immediata eseguibilità perché abbiamo bisogno di tornare abbastanza velocemente in commissione perché interfacciandoci per il regolamento con le varie categorie sindacali e con i lavoratori abbiamo già recepito delle istanze di urgenza che loro hanno su alcune tematiche che vorremmo andare ad affrontare in commissione e poi portare alla vostra attenzione entro due mesi di tempo. Il regolamento che andiamo a votare stasera è composto da sette titoli, noi nella delibera abbiamo allegato anche il vecchio regolamento che abbiamo in essere, non è stato possibile fare delle tabelle comparative perché è cambiato quasi tutto quindi non era possibile confrontare i vari articoli e abbiamo deciso di dividerlo come hanno fatto anche quasi tutti gli altri comuni in sette titoli, ogni titolo tratta una parte di vita lavorativa di questa categoria, quindi come si può avere una licenza, come si può vendere, come si può trasmettere ad altri il titolo come va trattata l'auto, come vanno trattati i clienti, quali sono le leggi e regolamenti che disciplinano il tassametro e la tariffa dove deve essere esposta, come deve essere esposta. È tutto abbastanza chiaro, non siamo scesi nel dettaglio né delle sanzioni né delle turnazioni perché a sesto in realtà i tassisti non hanno turnazioni perché questi sono tutti i temi che poi vogliamo andare a trattare all'interno della commissione mettendoli sul tavolo e discutendoli insieme ai sindacati di categoria e ai lavoratori quindi molto basico, si segue l'iter del regolamento di Regione Lombardia e quello che poi sono le specificità della loro attività lavorativa la andremo a disciplinare nelle prossime commissioni e la discuteremo poi sicuramente tutti quanti insieme grazie grazie a lei Assessore apro a questo punto la discussione per chi si vuole prenotare do la parola al Consigliere Foggetta, prego grazie a lei Assessore si no Presidente io farei la, non so se, la userei come presentazione dell'emendamento per poi si approfittiamo se il segretario è d'accordo ditemi se no ora facciamo a fine discussione a fine discussione presentiamo l'emendamento grazie Consigliere Foggetta qualcuno si vuole prenotare? passo la parola al Consigliere Maderloni, prego grazie innanzitutto ringrazio l'Assessore Aiosa che anche come sul regolamento dei cimiteri si è trovata a gestire un regolamento che era che era un po' un po' datato e quindi la ringrazio per l'inizio del lavoro che ha fatto perché in qualche modo ha spiegato che questo è è un inizio, allora proprio perché è un inizio vorrei come partito democratico vorrei provare ad aggiungere degli spunti di ragionamento visto che poi come ho detto anche prima un regolamento si vede nel modo in cui viene attuato e quindi la bontà del fatto che con questo regolamento riusciremo a garantire non solo a chi esercita il servizio di taxi ma anche ai cittadini un miglioramento dell'offerta di che c'è oggi parto anche qui in questo dato dal generale perché è una considerazione che in qualche modo è stata anche citata durante la commissione e sulla peculiarità che ha il Comune di Sesto ad oggi e cioè quella che in qualche modo rispetto agli altri Comuni della città metropolitana non è passatemi il termine non è non è conurbato grazie ormai l'ora ecco e che quindi questo primo passaggio verrà in qualche modo superato questo primo ostacolo e quindi sarà un miglioramento però vorrei provare a chiedere all'assessore di provare a alzare ulteriormente l'asticella cioè a capire come il si lega perché spesso i temi sono legati assieme e quindi forse non ho capito bene io anche la il ruolo del del NCC come in qualche modo vengono vengono considerati perché per quello che è lì la conoscenza che ho io non ha lo stesso la stessa valenza dico questo perché perché con l'entrata in alcune urbazioni finalmente anche Sesto entra in una logica di città metropolitana di area metropolitana ed essendo un servizio dove sostanzialmente le barriere fisiche tra Milano Sesto Cinisello non ci sono non ci sono non ha non ha senso che possano che ci possa essere una limitazione nei servizi anzi e sarebbe bello e qui chiedo la lancio la sfida visto anche la vicinanza con i comuni di Monza cercare di qualche modo di coinvolgere in una logica di di sistema questa realtà e e quindi quello che penso possa essere una sfida sia anche una sfida da portare al tavolo dove si ci sarà la contrattazione e soprattutto dico questo nel fatto che come amministrazione avete stimato con gli investimenti e lo sviluppo urbanistico una crescita della popolazione e quindi di conseguenza le attuali 22 licenze se ricordo bene potrebbero per una città di 80.000 abitanti diventare per una città di 100.000 abitanti magari ridurre ulteriormente quello che può essere la richiesta di soddisfazione di un bisogno la logica di accumulazione su questo potrebbe aiutare però credo anche che sia un'opportunità per chi vive a sesto e soprattutto vedendola nel lungo periodo abbiamo parlato di orizzonte di sviluppo per cui poniamo qua in questa serie di discussioni visto che da come è stata presentata i lavori poi passeranno alla commissione tecnica quindi in consiglio non ci sarà più un ritorno a meno che ovviamente non si possa fare poi una commissione consigliare per aggiornare su come è l'andamento e per quello chiedo anche già lancio qui la proposta che si possa in qualche modo pensare a un monitoraggio annuale su questo tipo di servizio anche per capire rispetto alle aspettative della categoria se il regolamento è stato in qualche modo indirizzato nella giusta direzione scusate la ripetizione grazie grazie a lei qualcun altro si vuole prenotare al momento non vedo prenotazioni ecco ne una passo la parola al consigliere Poliaghi grazie presidente innanzitutto ringrazio l'assessore per questo passaggio è stato spiegato anche prima questo primo passaggio secondo me molto importante secondo noi molto importante per far diventare sesto anche dal punto di vista dei taxi una città diciamo al passo con i tempi perché mi è capitato facendo tante trasferte di utilizzare diciamo questo mezzo quando siamo fuori dagli orari della metropolitana quant'altro e obiettivamente la normalità è che uno prenoti il taxi su Milano con il radio taxi e quant'altro perché è molto costoso molto più costoso molto più complicato molto probabilmente meno disponibile quindi sicuramente questo del regolamento è un questo è un primo passaggio per andare a fare poi i passaggi che portano verso una città moderna verso una città che si integra con la città metropolitana con delle regole omogenee insomma si è citato il conurbamento prima sicuramente quello è un passaggio fondamentale piuttosto che le convenzioni con gli aeroporti e quant'altro ora sicuramente una riflessione da fare da dire rispetto al prendere in mano queste questioni e sicuramente condivido anche la necessità poi di ritornare magari noi consiglieri possiamo chiedere che l'assessore ritorni da noi con una volta ogni tanto un avanzamento su questa penso che non avrà problemi a darci un avanzamento sui lavori della commissione tecnica sicuramente sono tematiche altresì delicate perché come dire i taxisti soprattutto su Sesto che hanno vissuto in 22 con delle loro regole del gioco fatte ad hoc e funzionavano probabilmente benissimo perché se no non ci sarebbero stati fino ad oggi così aprire un mondo nuovo anche per loro è un passaggio secondo me importante poi è un passaggio delicato quindi sono curioso anch'io come cittadino di vedere cosa succede su questa cosa ma sono anche certo che ci sono tutte le come dire tutte le carte da mettere in campo per poter portare a casa risultati più che soddisfacenti quindi il mio vuole essere solo un ringraziamento per questo passaggio per questo punto di partenza e poi penso che ci raggiorneremo grazie grazie a lei altri interventi in aula passo la parola al consigliere collegati grazie mille presidente allora in realtà voglio iniziare anche io con un ringraziamento all'assessore ma perché devo riconoscere che quando non me ne voglia nessun altro giuro che è un pro non è un contro che quando l'assessore presenta questi regolamenti poi magari i temi non sono necessariamente i più divertenti come abbiamo avuto modo di vedere anche qualche mese fa però apprezzo sempre che lo faccia esplicitando la volontà di tenere informati i consiglieri anche pochi minuti fa ha ribadito il fatto che tornerà molto volentieri in commissione a tenerci informati e apprezzo davvero questo atteggiamento e questo credo sia una premessa che va sopra poi quello che dirò relativamente alla delibera su alcune cose solleverò secondo me delle criticità ma voglio premettere che veramente come metodo di lavoro è secondo me molto molto positivo parto da una riflessione in parte già fatta dal consigliere Maderloni ovvero che noi vediamo e voi per primi ce lo dite nei documenti una sesto che nei prossimi dieci anni è proiettata in un futuro veramente turbolento questo perché pensare che una città aumenti del 15-20% i propri abitanti che delle aree finalmente trovino una nuova vita aumenta davvero la città la sua grandezza e la sua densità e questo sarà un cambiamento che sentiremo e i taxi anche se magari non sembra per un impatto saranno fondamentali in questo cambiamento un po' perché in realtà è forse l'elemento del trasporto pubblico su cui un'amministrazione comunale come Sesto può agire in maniera più facile perché è evidente che il trasporto su ferro sia esso Trenord o Ferrovia dello Stato o ATM non dipende certo esclusivamente dalla volontà del Comune di Sesto San Giovanni qualsiasi sia l'amministrazione e quindi è molto complesso andare ad agire così lo stesso vale per il trasporto su gomma come pubblico quindi gli autobus cioè i pullman gli autobus eccetera eccetera quindi i taxi e avere un regolamento aggiornato sui taxi diventa fondamentale per gestire anche questo cambiamento e quindi su questo apprezzo davvero il fatto che si sia sentita la necessità e si sia stato fatto di riprendere in mano un regolamento che era oggettivamente inadeguato e vetusto basta aver avuto il piacere di leggerlo per capire che forse anche solo una andava ripreso in mano fosse assolutamente necessario e allora perché ho detto che ci sono degli elementi su cui sollevo delle criticità perché come giustamente segato dall'assessore questo è un punto di partenza che ha dei grossi spazi bianchi che ancora dovranno dovranno anzi dovrete riempire questa è secondo me la principale criticità ovvero noi oggi siamo chiamati a votare un regolamento su cui non ho delle difficoltà a dirmi d'accordo ma non so che cosa ci sarà scritto in tutte le spazi che oggi sono bianchi fra sei mesi e non si tornerà a chiederci il voto a noi consiglieri comunali dipende da che cosa esce dalla trattativa e quello che un pochino mi è mancato in questa discussione e magari verrà fuori dopo il mio intervento quindi mi riservo di cambiare idea a riguardo è che non ho capito sinceramente quali siano gli obiettivi politici dell'amministrazione cioè al netto che secondo me anche vedendo un pochino non voglio interpretare male ma anche vedendo un pochino l'espressione fosse d'accordo con il ragionamento secondo cui i taxi sono e saranno importantissimi ma quale sarà il futuro fra dieci anni qual è l'obiettivo perché di conurbazione mi pare abbiano parlato i consiglieri non so se sarà ciò che sarà perseguito di turnazione a parte in commissione su una sollecitazione non c'è stato esplicitato un obiettivo cioè se ci fosse una turnazione su 12 ore su 16 su 20 su 24 dove in questo spettro l'amministrazione si dice soddisfatta e dove noi consiglieri ci diciamo soddisfatti cioè lo dico molto chiaramente se dovesse essere garantito un servizio su turni di 12 o di 14 ore secondo me sarebbe evidente che non è sufficiente per un territorio come quello di Sesto e quindi è importante sapere esattamente di cosa stiamo di cosa stiamo parlando e poi voglio passare a delle proposte perché dato che spesso viene detto che non le facciamo oggi è la seconda volta che mi fregio di poter fare delle piccole sollecitazioni poi che vengano raccolte non lo so quando c'è la possibilità come in questo caso quasi di partire da un punto zero nuovo perché talmente vecchio e remoto il passato fa talmente parte di un modo di gestire il sistema dei taxi all'interno del trasporto pubblico che non appartiene di certo alla contemporaneità c'è anche la possibilità di riscrivere alcune alcune regole e soprattutto di mettere diciamo a sistema delle pratiche positive che sono state fatte negli anni ma che non sono diciamo la regolarità e questo per come vedo io si può ottemperare su tutta una serie di convenzioni come ho già avuto modo di dire in commissione ma mi sento di ripeterlo anche in questa sede tra i tassisti della nostra città e l'amministrazione comunale convenzioni che possono essere relative a orari particolari a pubblici particolari come faccio degli esempi abbastanza ovvi ma credo se ne potrebbero fare altri ad esempio le persone particolarmente anziane o con difficoltà di movimento che hanno necessità di recarsi in ospedale che possano magari fare richiesta all'amministrazione di essere identificate in un qualche modo come delle persone bisognose che non possono essere accompagnate da altri e quindi accedere a una tariffa fissa una tariffa scontata queste sono idee poi ovviamente vanno messe sul terreno e immagino che non sia così semplice però per utilizzare un servizio del trasporto pubblico locale in maniera accessibile cioè che non possa prendere il taxi per andare all'ospedale solo che può permettersi magari anche solo per pochi minuti di spendere qualche decina di euro perché poi la realtà purtroppo è che soprattutto oggi quando in determinati orari arriva il taxi che non essendoci la disponibilità a sesto magari arriva da fuori arriva già con una con una grossa con un grosso sovrapprezzo e mi sembrerebbe giusto da parte di un'amministrazione conoscendo queste realtà provare a intervenire come è ne parlavamo anche in commissione già avvenuto in passato scusi mi sono reso conto che sono andando molto lungo quindi nel caso dovessi sforare utilizziamo minuti del gruppo altre situazioni possono essere come avviene a Milano sono dell'idea che indipendentemente dal colore politico delle giunte ci siano delle buone pratiche che si possano prendere ad esempio in determinate situazioni si può eventualmente valutare il trasporto gratuito o scontato per orari per determinate orari o zone che potrebbero essere più difficili meno sicure eccetera ad esempio a Milano questo accade la sera per le donne sicuramente ci sono altri generi di convenzioni che in questo momento non mi vengono in mente ma su cui mi sento di invitare la giunta e l'amministrazione a fare un pensiero non voglio essere particolarmente lungo ma ci sono altre due cose su cui vorrei dire un attimo un pensiero la prima è relativa alla necessità laddove ci dovesse essere su questo secondo me è da chiedere la valutazione della giunta o eventualmente poi della commissione tecnica di aumentare laddove ci fosse il caso le licenze se è stato preso in considerazione mi pare al momento di no però il futuro magari cambierà non dico il futuro domani dico il futuro a dieci anni quando una sesta sarà diversa se dovesse essere preso in dovesse essere preso in considerazione laddove non dovesse esserci la possibilità di fare il conurbamento in tempi brevi cioè se riteniamo che 22 siano il numero di licenze adeguate per garantire delle ore di servizio per cui l'amministrazione si dirà soddisfatta prima ancora che la possibilità di conurbare sesto come è stato fatto ad esempio mi raccontava l'assessore perché non ero conoscenza da cinisello quindi anche qui prendiamo le pratiche buone indipendentemente dal colore della giunta se però il conurbamento è una cosa che ha un orizzonte medio lungo se è stato preso in considerazione eventualmente di aumentare le licenze mi pare di no ma secondo me è un elemento l'ultima cosa e si lega un pochino a cosa secondo me un'amministrazione può fare riguardo il garantire un trasporto pubblico sul proprio territorio è quello che sicuramente sesto nonostante sia vicina a Milano praticamente contigua a Milano non ha in questo momento accesso in nessun modo a nessun a parte in realtà non è vero mi scuso ha accesso a una modalità di car sharing solamente in modalità parziale sul territorio di sesto questo secondo me potrebbe essere sia per quanto riguarda le macchine ma in realtà anche per quanto riguardano le due ruote potrebbe essere un obiettivo da affiancare in una ridiscussione di quello che è il sistema del trasporto pubblico a sesto che secondo me potrebbe trovarci tutti d'accordo niente fondamentalmente ho detto quello che che mi ero prefissato ci tengo di nuovo a precisare che il regolamento di per sé non mi trova contrario lo trova una bella proposta ci sono ancora secondo me molte domande senza che non hanno e non avranno una risposta e non possono averla perché ci sarà tutta la parte di trattazione come ci è spiegato da fare ma che quindi al momento lascia molti spazi bianchi in un regolamento che comunque complessivamente è secondo me positivo grazie grazie a lei consigliere Gatti passo la parola al consigliere Vincelli grazie presidente intanto ringrazio l'assessore per il lavoro svolto sul regolamento quindi diciamo che rispetto al vecchio regolamento abbiamo migliorato alcuni articoli alcune condizioni del regolamento e devo dire che per il momento sono soddisfatto è chiaro che un regolamento può sempre sicuramente migliorare mi è piaciuto anche l'intervento che è stato fatto anche dalla PL sulla questione sanzioni stazionamento e sigillo chiaramente del tassametro ricordo che però vicina Milano le zone di stazionamento le stanno chiaramente eliminando quindi questo è già su diciamo location abbastanza via abbastanza chiaramente importanti se faccio un escurso su quello che è il Milano Milano ha circa 4855 taxi e sono fermi dal 2006 ci sono poi ulteriori 7800 di diciamo mezzi senza conducente e rispetto Milano rispetto alle città europee sicuramente ha delle unità molto molto inferiori tanto è vero che il 14% delle richieste da parte dei utenti chiaramente di Milano viene chiaramente in evasa se se poi consideriamo anche la parte di che veniva che veniva chiaramente poc'anzi indicata come l'Inate Malpensa Orio Serio abbiamo circa 46 comuni nell'Interland con circa 5404 operatori allora questo cosa cosa vuol dire ormai il problema chiaramente dei taxi è un problema a livello chiaramente nazionale quindi che obiettivi noi ci possiamo porre visto che il regolamento sarà una legge nazionale al limite possiamo chiaramente porci magari degli obiettivi rispetto a la regione Lombardia si riterrà chiaramente opportuno di intervenire poi su quelle che saranno le nuove licenze l'ipotesi delle nuove licenze sicuramente la commissione che verrà poi costituita commissione consigliare che verrà chiaramente costituita ha un compito sicuramente non semplice non facile anche perché diciamo che a sesto in realtà oggi ci sono 22 operatori ne servirebbero almeno il doppio tanto è vero che in una relazione dell'autorità di regolazione dei trasporti riportato la 24 ore ci vogliono 2.000 abitanti per ogni taxi anzi sarebbero 0 esattamente sarebbero 0.56 ogni 1.000 chiaramente abitanti quindi questo sarà già un compito importante sicuramente per la città odierna quindi gli abitanti odierni a sesto san giovanni circa 82.000 e poi quello che è stato anche qui parlato diciamo dal punto di vista del consiglio comunale quello che sarà la città futura quindi noi nell'arco di ma già 4 fra 3 4 anni quando inizieranno chiaramente a essere costruite quindi finite le costruzioni chiaramente in essere città della salute piuttosto chiaramente di ostelli o via dicendo degli studentati sicuramente arriveremo a circa 15 17.000 in più questo che cosa comporta comporta sicuramente da parte di questa commissione intanto il valutare il valutare se 22 tassisti quindi 22 operatori su Sesto San Giovanni sono chiaramente tanti o pochi o giusti e poi anche quello che è il servizio da parte del 24 ore cioè nel senso che un servizio a Sesto San Giovanni dove non c'è all'interno un orario serale se non addirittura notturno sicuramente questo sarà un altro obiettivo sulle proposte effettivamente fatte da Gatti io capisco la questione chiaramente di poter usare chiaramente dei taxi con un'agevolazione però abbiamo già sul territorio Hauser e Caritas dove accompagnano già gli anziani cioè chi ha esigenze di essere portato in ospedali non solo di Sesto ma anche fuori chiaramente a Sesto San Giovanni di poter usufruire chiaramente di questo servizio diciamo che mi sembra di aver detto quanto meno di aver detto il più possibile grazie grazie a lei passo la parola al consigliere Cagliani sì faccio seguito gli interventi gli ultimi due del consigliere Gatti e del consigliere Vincelli oggi pomeriggio alcuni di noi hanno partecipato a una riunione delle assemblee congiunte bilancio e sì bilancio sanità forse territorio comaschi non so cosa vabbè in pratica era una commissione congiunta richiesta in regione per sollecitare gli adempimenti da parte delle imprese per la città della ricerca e della salute perché faccio questa premessa perché lì è stato confermato anche se ormai le conferme ce le avevano già date in anni passati altri soggetti è stato confermato che a novembre anzi 10-11 è stata da giorno e mese 10-11 2026 la città della salute e della ricerca dovrebbe essere sul territorio perché dico questo non vi parlo della riunione della commissione perché poi magari c'era anche il sindaco l'assessore la miranda consigliere foggetta avrete modo di sentirlo da altri perché dico questo perché al di là dell'aumento del numero dei cittadini sestesi ci sarà probabilmente un traffico veicolare maggiore perché questi due istituti che sono istituti di carattere internazionale hanno non ricordo più la percentuale ma si parla del 40% di utenti chiamiamoli così chiedo scusa di ammalati che vengono da altre regioni se non addirittura da fuori Italia quindi è logico che ci sarà un movimento di parenti che accompagnano gli ammalati in un periodo molto delicato della vita familiare e che quindi si troveranno a sostenere delle spese impreviste perché dovranno alloggiare auguro loro di trovarla a sesto ma magari a Milano e quindi dovranno poi muoversi non tutti usano le macchine a noleggio perché non hanno pratica di questo uso però i familiari probabilmente utilizzeranno a parte il trasporto pubblico ma magari anche i servizi di taxi non so se il regolamento già contempla questa ipotesi però se non l'avesse già fatto il regolamento magari all'interno della commissione visto che il 2026 è domani e ammesso che rispettino i tempi forse nella commissione è il caso di approfondire questo tema con chi mastica di più la materia che non il sottoscritto grazie grazie a lei adesso come spengo faccio io da qua ok sono altri interventi in aula chiudo la discussione replica l'assessore poi presentiamo l'emendamento grazie prego sessora Iosa grazie presidente dunque diciamo che in maniera rispettosa ci sono dei temi che noi abbiamo anche già buttato sul tavolo sulla commissione fittizia che abbiamo fatto prima di portare il regolamento in commissione perché sarebbe un po' sciocchino approcciarsi a un argomento del genere senza avere bene in chiaro che cosa si vuole fare e siccome comunque come dice sempre il nostro sindaco l'amministrazione parla per atti noi abbiamo già avvisato i nostri 22 tassisti che la domanda di conurbazione a regione l'abbiamo già inoltrata perché sappiamo benissimo quello a cui andremo incontro nei prossimi anni così come la inoltrata o la inoltrerà nei prossimi giorni cinisello balsamo e così come la inoltrerà Cologno che cosa però bisogna stare attenti i taxisti il taxi sicuramente è un servizio pubblico sopra quelle automobiline bianche però ci sono delle persone che lavorano e con quello che incassano dal loro lavoro mantengono le famiglie si sente soprattutto in questo ultimo periodo si sente dire si sentono dire tante cose sono troppi sono pochi sono troppo pochi gente dello spettacolo che ha dichiarato di aspettarli per ore in realtà possono essere pochi nel momento in cui ci sono mostre eventi fiere soprattutto a Milano bisogna considerare anche però i momenti in cui questi eventi finiscono e loro si girano i pollici quindi prima di buttare sul tavolo nuove licenze prima di buttare sul tavolo una conurbazione che venga troppo presto rispetto all'avvento della città della ricerca e della salute e di questa percentuale di gente che verrà ad abitare sul nostro territorio bisogna cercare di gestire in questo tempo di passaggio bene la situazione cosa che adesso non è perché loro non hanno turni lavorano liberi e belli in giro per la città vogliono modificare comunque il loro tariffario perché indietro di qualche anno quindi noi gli abbiamo già detto che metteremo sul tavolo a fronte di una modifica delle tariffe la turnazione una turnazione che ci deve coprire come diceva giustamente il consigliere Gatti giorno e notte perché comunque non è plausibile che un cittadino che chiama un taxi a sesto se lo veda arrivare come dicono loro ma noi abbiamo fatto l'accordo col 6969 a noi poco ci interessa dell'accordo col 6969 perché io non posso avere un cittadino che si vede arrivare il taxi con 12 euro di tassametro e non posso avere i taxi in città che si rifiutano di fare faccio un esempio stupido piazza petazzi cascinagatti perché incassano troppo poco quindi queste sono le storture io credo che in un primo momento con una buona trattativa perché credo di non dovervi spiegare io la vehemenza giustificata perché giustificano e tutelano il loro lavoro a differenza dei commercianti che quando gli hanno messo sulla testa la Bersani sono stati a casa a guardare il televisore e quindi si sono visti mangiare le licenze delle loro attività commerciali buttate nel fumo che in realtà era il loro tfr di una vita o la liberalizzazione a tucur degli orari che ci vede oggi con tutte le situazioni di difficoltà che abbiamo sul territorio nella gestione di determinate attività che ci creano non pochi problemi e che non possiamo chiudere a cui non possiamo ridurre gli orari quindi cercheremo di gestire bene o meglio nella maniera più corretta questo anno hanno il mezzo di passaggio che avremo la conurbazione l'abbiamo già chiesta Regione ci ha detto che comunque devono rivedere la legge regionale credo anche nell'ottica di quello che diceva il consigliere Vincelli della legge nazionale dopodiché sicuramente ci ragioneremo insieme la turnazione la stabilisce il direttore di settore ma nulla ci vieta comunque di venire in commissione e di dire abbiamo fatto i tavoli di confronto ne è uscito A, B, C, D avete qualche proposta ad aggiungere e di riportarla al tavolo io non non ho nessun problema da questo punto di vista il consigliere poi chiedeva Maderloni mi sembra chiedeva gli NCC sono tutt'altra cosa ovvero oggi come oggi c'è un grande risotto taxi NCC e Uber nessuno rispetta le regole fino in fondo perché comunque l'NCC dovrebbe stare in in un auto come si dice in un box che non è un box scusate l'orario non mi viene il termine dovrebbe avere un telefono al quale viene chiamato e al quale viene prenotato una corsa solitamente gli NCC lavorano con personaggi più importanti di quello che posso essere io o voi e su percorsi molto più lunghi rispetto a un taxi in realtà poi chi utilizza l'NCC per spostarsi per andare al mare o per andare in montagna molte volte c'è il numero di telefono in tasca e lo chiama e gli fa fare il servizio taxi cosa che non sarebbe possibile e non sarebbe neanche legalmente ammissibile così come Uber è una cosa molto al limite paragonabile un po' all'avvento di Amazon che ha avuto sul commercio di vicinato viaggiano tutti molto borderline quindi dobbiamo poi insieme decidere che ci sono determinate robe da tutelare il lavoro è da tutelare di chi ha speso 150.000 euro per comprarsi una licenza e per scendere in strada tutti i giorni certo il taxi come dice il sindaco quando ci siamo confrontati è un servizio pubblico e noi abbiamo l'obbligo di garantire un servizio ai nostri cittadini rispettando però anche il lavoratore che ci lavora sopra grazie grazie a lei assessore dichiaro che con riferimento a questa delibera è stato presentato un emendamento a firma del gruppo consigliare Reventiamo Sesto e da parte di Alleanza Verdi Sinistra faccio anche presente che prima dell'inizio del Consiglio Comunale si sono uniti i capigruppo dove all'unanimità hanno concordato una modifica appunto sul testo dell'emendamento stesso adesso passo la parola al consigliere Foggetta che ci appunto presenta l'emendamento così come è stato modificato appunto della capigruppo prima però lascio la parola al segretario per un parere tecnico in merito ovviamente con l'assestamento del testo dell'emendamento da parte del primo firmatario il consigliere Foggetta il referente tecnico in aula divento io che esprimo parere favorevole su questo assestamento grazie passo la parola al consigliere Foggetta sì allora è molto semplice noi quello che chiedevamo è che al punto numero uno dell'articolo tre del regolamento quello in cui si regolamenta si parla della commissione tecnico consultiva che è quella che esprime parere riguardo il funzionamento del servizio di cui stiamo parlando fosse aggiunto in questa commissione da regolamento da proposta della giunta a questa commissione partecipano sindaco assessore delegato lo dico per spiegarlo a chi ci sta ci sta seguendo sindaco assessore delegato dirigente area settore comandante polizia locale due rappresentanti designati delle associazioni di categorie più rappresentative due rappresentanti designati dell'associazione degli utenti e dei consumatori noi a questa lista di personalità di ruoli che partecipano a questa commissione chiediamo chiedevamo inizialmente di aggiungere due consiglieri comunali scelti con deliberazione consigliare rispettivamente uno all'interno della maggioranza e uno all'interno della minoranza consigliare questa sera d'accordo su proposta dell'assessora e d'accordo con tutti i capigruppo abbiamo deciso di ulteriormente emendare l'emendamento e trasformarlo in due consiglieri comunali designati dal consiglio comunale all'interno della maggioranza e uno all'interno della minoranza consigliare in modo da evitare ulteriori passaggi che possiamo evitare facendo una discussione interna alle due parti del consiglio comunale ma comunque avere una rappresentanza di entrambe appunto le parti del consiglio comunale grazie se nessuno ha da obiettare io passerei direttamente alla votazione saltando la dichiarazione di voto sull'emendamento se non mi suona ok procediamo con la votazione dell'emendamento apro la votazione abbiamo 22 voti validi 22 voti favorevoli il consiglio approva l'emendamento passiamo adesso alla dichiarazione di voto invece in merito alla proposta di delibera così come emendata città in comune consigliere pagano ok vado vado allora voglio dire questo nel senso che sono stata molto attenta ad ascoltare soprattutto insomma sia la relazione abbiamo fatto la commissione l'assessore ci ha spiegato l'assessora ci ha spiegato delle cose e poi anche le osservazioni che secondo me sono state sicuramente pertinenti rispetto al regolamento tenendo conto appunto che è un tema importante come si diceva nel senso che è un servizio pubblico quindi dovrebbe essere è anche un servizio pubblico quindi dovrebbe essere un servizio per la città io devo dire che francamente come gruppo noi abbiamo pensato di esprimere un voto favorevole perché nonostante condividiamo insomma anche degli elementi di fragilità che ci sono riteniamo che insomma questo punto di partenza legato anche a come dire a questo confronto tra le parti fatto prima insomma tenendo conto delle parti mettendola al tavolo anche con una progettualità per arrivare poi a come dire ad un percorso condiviso possa essere un buon punto di partenza con l'emendamento tra l'altro maggior ragione ci saranno un consigliere di maggioranza e un consigliere di opposizione insomma che faranno parte se non ho capito male mi correga se sbaglio della commissione tecnica quindi voglio dire a questo punto si costruisce anche un filo più rapido anche di confronto quindi penso che anche questa sia una buona soluzione e ringrazio sia Sinistra Italiana che la lista reinventiamo stesso per aver proposto questo inondamento quindi direi che confermo il voto favorevole grazie Alleanza Verdi Sinistra Consigliere Foggetto Presidente mi permetta di leggere un messaggio che è arrivato poco fa che mi è arrivato poco fa che dice leggo testualmente non ho capito ma sono sbocciati i fiori d'arancio con la maggioranza stasera perché su no no assolutamente ci tengo a rassicurare ci tengo a rassicurare tutti e tutte soprattutto fuori di qua no non sono non sono sbocciati ma il nostro voto su questa su questa delibera soprattutto anche e ringrazio tutti i capi gruppo per averla accolto e tutti quelli che l'hanno votata soprattutto con l'emendamento accolto ci ci trova favorevoli l'unica cosa l'unico appunto che mi permetto di fare ma che è un appunto per il futuro non ci avevo pensato ma nell'ascoltare il consigliere il consigliere Gatti mi è venuto in mente si parlava prima di car sharing e bike sharing e mi è tornato alla mente che nel che APCOA si era preso l'impegno di far partire un progetto di bike sharing a partire da i 18 mesi dalla partenza del del contratto vorrei chiederemo vorrei capire in futuro non è argomento di questa sera ma mi piacerebbe sapere qual è lo stato dell'arte rispetto a questa cosa Lega Salvini Premier consigliera Grazie Presidente il voto sarà favorevole Forza Italia consigliera Cupido Grazie Presidente voto favorevole Partito Democratico consigliere Maderloni Grazie rispetto rispetto agli interventi che abbiamo espresso come gruppo apprezzando il percorso tracciato però su questa delibera esprimiamo un voto di astensione perché vorremmo riuscire a capire poi se effettivamente tutte le cose che sono emerse gli obiettivi che sono stati anche prefistati verranno o meno raggiunti e nel caso anche ricrederci sul voto e vedere un po' come va Grazie Gruppo Ministro consigliere Vincelli Grazie Presidente questo voto da parte del PD mi lascia veramente perplesso e meravigliato perché non comprendo stiamo stiamo chiaramente votando un regolamento non quello che poi sarà il contenuto di una serie di attività che verrà svolta all'interno della commissione comunque noi moderanti siamo favorevoli a questo regolamento grazie abbiamo sesto consigliere Moltene Grazie Presidente e sono contento invece io della stensione del PD perché così perlomeno si sfata il discorso dei fiori d'arancio e il nostro voto sarà favorevole Fratelli d'Italia consigliere Turolla grazie Presidente intanto volevo ringraziare gli assessori e gli uffici tecnici che hanno elaborato questo regolamento e il precedente che abbiamo approvato poco fa perché comunque spesso non notiamo e non pensiamo al lavoro che c'è dietro e che viene svolto e che comunque per scrivere regolamenti è parecchio volevo poi far notare una piccola cosa che quando c'è la stata riunione dei capigruppo forse per fretta o altro veramente dimenticati che ero qui io mi sono perso la comunicazione però non c'ero poi vabbè alla fine ero d'accordo ho votato a favore nessun problema però prossima volta guardiamoci un attimo va bene grazie grazie Presidente Turolla per la pazienza Di Stefano Sindaco Consigliere Pogliaghi grazie Presidente il voto è favorevole sono sicuro che il lavoro dell'assessore e del gruppo tecnico porterà grandi risultati e poi sicuramente il mercato supporterà e aiuterà alcune scelte rispetto alle novità nella nostra città grazie grazie ci prepariamo per la votazione apro la votazione abbiamo 22 voti validi di cui 18 voti favorevoli 4 astenuti la delibera viene approvata procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità apro la votazione mancano due voti all'appello uno manca un voto all'appello Valsecchi consigliere Valsecchi grazie 22 voti validi di cui 18 favorevoli 4 astenuti dichiaro la delibera esecutiva passiamo al punto 7 all'ordine del giorno approvazione verbale della seduta consigliare del giorno 26 settembre 2023 delle ore 20 se non ci sono osservazioni intanto preparo la votazione Cagliani ha dato l'ok però no c'è Gattia c'è Gattia prego Gattia hai la parola buonasera ci siamo andati il cambio no allora raddoppio dei tempi ovviamente no no raddoppio dei tempi no però una cosa su cui a differenza della volta scorsa l'altra volta erano le 2.20 e quindi l'ho detta in 10 secondi stavolta è argomento no io ho chiesto in discussione dei verbali l'ultimo consiglio comunale di avere una risposta se le comunicazioni private che sono disponibili col nuovo sistema siano verbalizzate o meno non ho ricevuto risposta quindi spiego mi prendo un minuto per spiegare perché continuo a insistere su questa cosa dato che se no sembro un matto io ritengo che questo sistema su cui valutazione è estremamente positiva sono molto contento che abbiate fatto questa implementazione ci dia la possibilità di parlare tra consiglieri durante in maniera privata durante il il consiglio siccome questa cosa utilizziamo uno strumento che è della città pubblico ritengo che per trasparenza le comunicazioni che ci sono qui dentro che possono essere utili io una volta ad esempio ho chiesto un'informazione al presidente per non disturbare e lui mi ha risposto debbano essere verbalizzate rese pubbliche faccio un appunto non sono permesse le comunicazioni private tra consiglieri in forma non intercettabile tra virgolette tanto che sebbene poi sia una cosa non particolarmente applicata il telefono deve essere spento durante l'aula del consiglio non è permesso in teoria scriversi che cosa si vuole fare per trasparenza per l'appunto ora è ovvio che c'è una generosa disapplicazione io per primo il telefono acceso non ne faccio mistero però siccome il telefono rimane una cosa privata ci mancherebbe ma su ciò che è pubblico secondo me la trasparenza richiede che sia verbalizzato o che sia reso impossibile mandare messaggi grazie e mi scuso se ci tengo a intervenire su questa cosa grazie a lei su questo daremo risposta sentendo poi giustamente la società che ci gestisce il software passo al punto 7 all'ordine del giorno appunto che avevo già annunciato approvazione verbale della saluta consigliare del giorno 26 settembre passiamo quindi alla votazione apro la votazione abbiamo 22 voti validi di cui 22 voti favorevoli il verbale viene approvato ed è esecutivo dato il clima sono quasi dispiaciuto ma sono le ore 17 le ore 0 e 17 dichiaro pertanto chiuso il consiglio comunale ringrazio tutti per la partecipazione e il lavoro svolto vuole la risposta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti